Buonasera, buonasera, benvenuti, noi partiamo, aspetta perché io sono, tu sei più alto, mettiamo la dritta, stiamo facendo un danno, così è uguale, noi partiamo sempre con le distanze perché siamo senza maschera e quindi vogliamo mantenere le distanze, questi sono a posto, tra te è il primo ospite, la distanza c'è, fai la prova, è caduto tutto, eccolo qua, Max Bastoni, consigliere regionale Lega, eccolo qua, c'è la distanza, la distanza c'è, qui adesso arriverà l'altro ospite che mi ha detto che è in ritardo, però mi sembra evidente che c'è. Al momento è molto distanziato, è ancora più distanziato perché è collegato via Skype il professor Fabrizio Pregliasco, buonasera, eccolo qua. Carissimi, buonasera a tutti. Allora, poi ci facciamo gli auguri di Pasqua, ma prima vediamo un po' come sta andando la situazione. Io oggi mi sono un po' allarmata perché ho sentito Brusaferro con questo allarme, per cui è vero che l'RT sta scendendo, però la pressione negli ospedali è ancora molto alta. Volevo chiedere a te la tua impressione su Milano, sulla Lombardia e perché è così, perché nonostante l'RT si stia abbassando la pressione è ancora così alta. Sì, in effetti anche oggi con un po' di colleghi stavamo valutando la situazione degli ospedali. Qualche segnale positivo ce l'abbiamo in realtà e questo c'è anche sul versante dei casi più impegnativi. Però l'abbiamo già imparato tristemente nella prima, seconda ondata e ora in questa terza che i parametri più pesanti, quindi la mortalità, ma anche i ricoveri, i ricoveri in terapia intensiva, sono gli ultimi a migliorare dopo che c'è stato un calo consistente, continuo del numero di nuovi casi. Perché purtroppo la carriera è una carriera di lunga durata, di sofferenza nei casi più tristi. Quindi diciamo che complessivamente il dato nazionale non è malvagio perché è andato sotto l'1, però con variazioni sul tema e quindi con diverse regioni ancora sopra l'1. e comunque diciamo una riduzione, se vogliamo vedere l'aspetto positivo, di circa un 4% di casi in meno settimana su settimana. Quindi siamo di fatto su un plateau. Si vede il risultato delle misure di contenimento? Sì, sì, che non sono mai immediate perché sappiamo che abbiamo 14 giorni circa di ritardo fra l'azione e la reazione. Perché in pratica qui con i vari sistemi, l'ho già detto più volte con voi, la situazione attuale è che ogni contatto lo dobbiamo considerare a rischio. Tale è la diffusione in particolare ormai della variante inglese, che non è più la variante inglese e ormai siamo infestati per certi versi dalla variante inglese. Non è più la variante, è diventata la predominante. È la predominante. E noi con la regolazione rosso-giallo-arancione aumentiamo o riduciamo il numero di contatti e conseguentemente delle infezioni. Abbiamo visto la Sardegna, tre settimane giuivano di zona bianca e sono finiti nel peggio. Perché purtroppo ancora siamo in una condizione dove le persone rischiano in ogni momento di contatto. In particolare questa nuova variante più contagiosa determina nei giovani infezioni inapparenti e quindi può lavorare alla grande dal punto di vista della diffusizione. Senti, ma il fatto che ad esempio nell'RSA siano già tutti vaccinati, i medici sono tutti vaccinati, a parte quella piccola percentuale di Novax, che però adesso si vaccineranno anche loro, si nota nella mortalità e nell'ospedalizzazione? Perché vorrei dare anche un segnale positivo, noi guardiamo solo all'Inghilterra, c'è stato un giorno, zero morti perché li hanno tutti vaccinati, ma guardiamo in casa nostra. La situazione è assolutamente simile. Il dato proprio lo vediamo anche nel gruppo San Donato, nei nostri 18 ospedali, nella casistica che abbiamo esaminato giusto questa sera, ma anche come dato nazionale, che gli operatori sanitari si infettano pochissimo. Purtroppo lo sappiamo, non è zero rischio, però un crollo nel numero di soggetti positivi e la stessa cosa bellissima negli soggetti con RSA, perché in tutta Italia, ma anche in Lombardia, che se ne dica, c'è stata una bella copertura nei soggetti con RSA. Di fatto, quasi la totalità, nel più albergo Tribuncio siamo stati, in particolare di cui mi occupo, sin da subito, attentissimi a essere sistematici nella vaccinazione, anche lì abbiamo ottenuto risultati lusinghieri di copertura vaccinale. Quindi lì vediamo zero morti per Covid ormai da tempo. Senti, ho avuto la segnalazione di questo caso, volevo che tu ci spiegassi se è molto raro. Medico vaccinato con Pfizer a gennaio, prima e seconda dose, adesso è stato infettato ed è, non è neanche così asintomatico, perché dei sintomi ce l'ha, è stato infettato dai genitori. Casi di questo genere sono rari? Quanto possono ripetersi? Perché non è che c'è il medico che ha 40 anni, quindi è giovane, in buona salute, che però non sta benissimo. Infatti, purtroppo questo è l'elemento che sapevamo e purtroppo è confermato. Dei casi ce li abbiamo anche in Lombardia di fallimento vaccinale, lo si è detto, anche i vaccini comunque in genere hanno tutti una sicurezza nell'evitare i casi gravissimi. Questo è l'elemento che ci importa. Però hanno qualche defiance nell'evitare quello che io spero, come è stato in altri casi che ho visto, una situazione magari un po' impegnativa, come stai raccontando ora, ma non a rischio vita. Neanche a rischio ricovero, però in ogni caso capisco che questo medico, che è una donna, questa dottoressa, un po' di delusione ce l'ha. Un po' di delusione ce l'ha, chiaro. Lo capisco. Senti, invece parliamo di cose positive. La campagna massiva della vaccinazione della regione Lombardia, poi dopo noi la spiegheremo, abbiamo anche fatto una lavagna con tutte le date. Tu pensi che i vaccini arriveranno per poterla realizzare effettivamente? Questo è quello che ci viene assicurato. Al di là poi di tutto quello che è stato sbattuto in faccia alla Lombardia, il problema di tutta Italia e anche della Lombardia è stata la carenza di dosi nel far velocizzare la campagna. E quindi ci siamo ritrovati. Anche noi al Galeazzi stiamo andando al trotto, ma potremmo andare al galoppo, volendo, dal punto di vista organizzativo. E quindi davvero io spero che questa difficoltà si risolva. È chiaro che il problema è un problema mondiale, europeo, di disponibilità di dosi. In Lombardia qualche pasticcetto è capitato dal punto di vista delle prenotazioni e del resto, però ci sta, io dico, non perché voglio fare l'avvocato della regione Lombardia, ma proprio perché si tratta di un'epopea, quella che stiamo vivendo ed è la più grande e la inusitata campagna vaccinale che ovviamente necessita un continuo adattamento, un'organizzazione e un coinvolgimento di tutti, anche purtroppo, ed è qui una parte di sofferenza, un po' di pazienza da parte di qualcuno rispetto al fatto di spedirlo a qualche chilometro un po' di troppo in un centro vaccinale. L'abbiamo visto. Ma è un fatto legato a un'ogliatura di un'organizzazione che in tutta Italia si sta dopo elementi appunto di attesa, perché il problema è proprio qui, siamo nella stessa situazione delle mascherine a inizio pandemia. Ce n'erano poche e bisognava razionarle e qui in Italia e in Europa è la situazione che capita. Però io con te non voglio parlare di politica, poi lo facciamo con gli altri, ma di fatto in regione Lombardia qualche pasticcio in più è stato fatto. Aria l'hanno riconosciuto dall'amorati a Bertolaso, tutti quanti, a Fontana. Non lo vedo come un'ottica di voler fare quello che si cercava, cioè velocemente la campagna vaccinale. E questo ha comportato dei rischi che purtroppo correndoli ogni tanto capita che si inciagano. Domande da casa? A casa più che altro in due sottolineano una problematica che è quella degli over 80 che non hanno ancora ricevuto la dose di vaccino e uno dice mia mamma, mia suocera anzi ha 93 anni nessun appuntamento e un altro dice addirittura c'è il numero verde che risulta intasato e non si riesce a chiedere di reinserire gli over 80. Perché adesso la problematica è, chiedo anche Apregliasco, cioè rimane il fatto che quelli che più rischiano, quelli che sono più fragili, che sono più da tutelare sono gli over 80. Visto che c'è una platea di over 80 che non è stata vaccinata per mille motivi, cioè quella mattina lì non è riuscita ad andare in quel posto là o magari aveva mal di testa o magari aveva chissà che cos'altro, adesso bisogna ripiazzarli questi qui. E pare ci siano, almeno scrivono da casa e hanno scritto anche non qui, ma hanno anche chiamato qui a Terenova per denunciare la cosa, pare che la problematica lì ci sia ancora. Credo che questa sia un'emergenza assoluta. Prima ancora che fare il resto, bisognerebbe fare quegli over 80 lì. Però ecco, scusate, intervengo io perché questa sera, scusami Fabrizio, perché questa sera la Morati ha annunciato che dal 7 all'11 aprile tutti gli over 80 che non sono stati vaccinati possono andare nel centro vaccinale più vicino con la tessera sanitaria e li vaccinano. Bei momenti anche quelli penso, magari ce la facciamo, però non so bene... Esatto, mi immagino, non lo so, speriamo che funzioni bene perché mi immagino sta platea di vecchietti che vanno lì e speriamo che non vadano tutti nello stesso posto. Sì, speriamo, sì sì, perché lo vediamo già in questo momento, perché sono state date indicazioni già in questo senso con degli sms e effettivamente questo weekend, il prossimo weekend, sono stati chiamati, almeno abbiamo definito questo come V-Day per dare veramente un booster. noi, tra l'altro, per dire, normalmente siamo organizzati come Galeazzi, tanto per dare un'idea di fare 300 vaccini al giorno, ne potremmo fare di più, ma sabato e domenica prossima ne faremo mille al giorno. Sarà un impegno non da poco, lo dico perché noi, rispetto alla responsabilità personale che ho, ma anche, per quanto abbiamo visto, a un'organizzazione che c'è stata chiesta ed è stata chiesta a livello regionale. Senti, l'ultima cosa da parte mia è questi giorni di Pasqua che arrivano, credo che saranno più blindati di quelli del Natale, perché ad esempio gli spostamenti per le seconde case in molte regioni adesso hanno bloccato, hanno chiuso le frontiere. Movimenti ce ne sono pochissimi, vedevo che non ci sono prenotazioni, perché ovviamente tutte le strutture alberghiere sono chiuse, non si può andare quasi da nessuna parte nelle seconde case, quindi l'unico timore è che ci siano assembramenti privati, nelle case private o nelle strade. Tu ti vedi dopo le vacanze un peggioramento o un miglioramento della situazione dei contagi? La tua previsione personale? Io spero che ci sia una grande responsabilità, è chiaro che vedo anche solo da quanto mi insultano sui social ormai una insofferenza per questo tipo di indicazioni e temo quindi che il weekend potrà far pensare a un po' di persone di scappare, di sgattaiolare o comunque appunto di fare ciò che è più difficile da controllare, cioè assembramenti in casa e questo purtroppo è un rischio. Io spero che tutto ciò non incida più di tanto, non è facile vederlo, non lo si vedrà nell'immediato, ma nel caso nella settimana successiva rispetto a questo desiderio acuto. Tra l'altro incredibile e stupidissimo a mio avviso il fatto che sia possibile andare a incontrarsi in Germania, perché volendo, ecco uno suggerimento, spero solo tardivo, è che una famiglia che vuole vedersi alla grande prende un po' di aerei, se ce lo può permettere ovviamente e si incontrano all'estero e questo è stato una sciocchezza. D'altra parte come si fa a impedire a una persona di prendere un aereo e andare fuori, se fuori lo prendono? No, è che forse la quarantena andava fatta un po' più lunga e stabilita un po' prima. Forse andava fatta una cosa europea, possiamo buttarla lì in conseguenza. Oppure fare una cosa europea, bravo. Per parlarsi di quello pregliasco penso. Quello anche. Sostanzialmente sì. Certo, cioè fare in modo che, eh sì, però invece le baleari sono lì che aspettano solo noi, eccetera. Sì sì, quello sicuramente. Devo dire che Speranza, ne parleremo nell'ultima parte del programma, ha fatto ideato questa quarantena di cinque giorni, ma peraltro non si può neanche verificare che una persona la faccia sul serio, perché no, non è che imprigione ha in casa sua, quindi... Va bene, ci auguriamo che, sì, perché il timore mio è anche quello, no? Che vadano tutti nelle case e che facciano quello che non possono fare nei ristoranti. Comunque, speriamo in bene. L'ultimissima cosa, ho letto che oggi hanno isolato una nuova variante inglese e nigeriana. Cioè, ci dobbiamo aspettare che ne arrivino ancora altre, sì, eh? È un fatto assolutamente normale, anzi, dobbiamo velocizzare la vaccinazione proprio per abbattere la possibilità che il virus in questo momento provi altre variazioni sul tema. Ne abbiamo individuate 12.900 di interesse specifico, altre sono piccole variazioni sul tema che non incidono sull'efficacia e quando poi la vaccinazione sarà ancora più ampia, il problema permane, perché il virus cercherà e anzi sarà più stimolato a provare variazioni sul tema per continuare a romperci le scatole, proprio nel momento in cui la gran parte di noi, speriamo nel più breve tempo possibile, sarà immune grazie alla vaccinazione. Va bene, speriamo in bene, va bene, speriamo in bene. Senti, grazie, grazie per il collegamento, tanti auguri a te famiglia di Buonapasqua, lavorerai però presumo. Assolutamente sì, perché siamo in piena campagna vaccinale, quindi è bene essere vicini ai colleghi che sono in prima lì. Va bene, grazie di tutto, buon lavoro, tanti auguri, a presto. Auguri a tutti. Va bene, allora adesso non hai voluto chiedergli niente, noi ti abbiamo dato la parola, ma è stato sufficiente così. Allora facciamo così, mandiamo la fascia e poi parliamo un po' di questo calendario che abbiamo preparato io e Jacopo prima, secondo me è molto chiaro, però lo spiegheremo bene, per chi ci guarda perché tutte le persone che vogliono vaccinarsi adesso hanno una data, adesso hanno un percorso da fare e sanno che potranno vaccinarsi, ok? Ne parliamo dopo la pubblicità. Allora, informazioni di servizio, la ripetiamo, annunciato oggi dalla Moratti, dal 7 all'11 aprile, tutti gli over 80 che non hanno ancora ricevuto la vaccinazione o che non si sono neanche iscritti perché non ci avevano voglia, non ci avevano tempo, non ci avevano il figlio o la figlia che le aiutava, possono andare a farsi vaccinare direttamente nel centro vaccinale più vicino, si devono portare la carta d'identità e la tessera sanitaria, ok? Chi ha bisogno di aiuto perché non può muoversi deve chiamare il solito numero verde 800-894-545, dopo magari lo ripetiamo più volte, e segnalare che deve essere venuto a prendere o accompagnato o deve essere vaccinato a domicilio, ok? Quindi tutti gli over 80 dal 7 di aprile hanno una soluzione. Invece gli under 80 è uscito il calendario, allora io non voglio farti fare il balletto, però bisogna tenere le distanze e bisogna indicarlo. Prima una domanda a lui, una piccatina a lui, 200 mila adesioni oggi, in un giorno, cioè rispetto a Aria siamo su un altro pianeta. Beh quello non dipende dal portale, dipende dalle persone che chiamano e aderiscono. Beh però, no, no, ha funzionato tutto, nel senso che non ci sono stati intoppi. Non aveva funzionato tutto anche a me. Tu dici che? Vabbè però così c'è menagrammo. Se la dici così bastoni è menagrammo. Non funzionava l'SMS il primo giorno. No, però adesso è anche più semplice perché tu quando ti scrivi ti danno già la data, non è che ti dicono poi la richiamiamo. No, più che altro la scegli, cioè adesso la scegli, scegli la data, scegli l'orario e scegli tra un overo di centri vaccinali, cioè è diverso da Aria, Aria non ti faceva scegliere niente. Penso che sia evidente a tutti che Aria non abbia avuto delle disfunzioni, tant'è che è stata sostituita. Quindi non è che stiamo qua a difendere Aria ad oltranza. Aria infatti è stata accantonata, ha fallito e evidentemente non era in grado di seguire e organizzare questa campagna vaccinale. Allora, vediamo un po' per chi ci guarda che non ha ancora capito come funziona, glielo spieghi tu? Io? E ce l'hai tu la lavagna lì. Allora, qui siamo sulla campagna vaccinale nelle varie opzioni di età. Partiamo dall'età, allora la prima fascia di età è partita oggi. Allora, innanzitutto non guardate questo, cioè guardate, dopo vi spieghiamo perché c'è, vero Santa Croce? Sì. Non guardate questi numeri, partiamo direttamente da sotto. Dai 75 ai 79 anni, questa è la platea, 449 mila, quasi 450 mila persone che possono prenotare. Sì, da oggi. Da oggi si iniziava la prenotazione, l'inizio della vaccinazione è fissato per il 12 di aprile, quindi fra dieci giorni e la fine della somministrazione della prima dose, la conclusione della somministrazione della prima dose ai prenotati, qualunque sia il numero di vaccini che avremo a disposizione, è prevista per il 26 di aprile. Quindi entro il 26 di aprile tutti i 75 nove anni avranno la prima dose di vaccino. Domanda, che vaccino gli fanno non si sa. Quindi se AstraZeneca li richiamano dopo tre mesi, se Pfizer dopo tre settimane, se Johnson e Johnson non li richiamano più. E questo purtroppo è il problema dei vaccini che tra l'altro mancano ad oggi. Lui è in tema pasquale il capo cosparso di cenere, perché è in ritardo. Gianluca Corrado, Movimento 5 Stelle, buonasera. Quindi quello purtroppo dobbiamo attendere. Ok, andiamo avanti. Adesso sono arrivate tante dosi di Moderna. Ah, poi c'è anche Moderna, che anche quello è però due dosi, come fai? Sì, sì, sì. Beh, adesso c'è anche la maxidose per Moderna, c'è l'idea di fare una dose più ampia, più grossa e dovrebbe bastarne. Adesso se non ho capito male. Andiamo sotto, da 70-74 anni sono più di mezzo milione, ci si comincia a iscrivere il 15 di aprile. Il 27 aprile, quindi dopo che sono finite le vaccinazioni della prima dose degli under 79 ma over 75, il giorno successivo parte la vaccinazione di quelli tra i 70 e i 74 anni. E qui c'è una discrepanza, nel senso che a seconda di quante dosi, o meglio, di quante dosi ci sono e di quante somministrazioni si riescono a fare ogni giorno. A seconda della performance. Esatto. Con un'alta capacità di somministrazione si finisce l'8 maggio, con una bassa capacità ma si finisce il 12 maggio. Cinque giorni dopo non è sta grande… No. E qui questi numeri hanno un senso perché l'alta capacità sono 65 mila al giorno, in questo caso 35 mila è la bassa capacità. Quindi a seconda di quanti ne arrivano e a seconda di quanti riusciti a farli. Certo, quanti si riescono a fare. Poi ancora più giovani. Under 70 sostanzialmente. Dai 60 ai 69. Qua sono tantissimi. Sono un milione e duecentomila quasi. Dal 22 aprile si inizia a prenotarsi. Anche l'inizio della vaccinazione qui differisce a seconda di quante dosi di Johnson & Johnson e di tutti gli altri vaccini arriveranno. Si può partire o il 9 o il 13 a seconda che vada male o bene. E si finisce? Si finisce il 18 maggio nel caso migliore, con alta capacità di somministrazione. Si va a giugno, al 9 giugno nel caso in cui non si riescano a fare tante inoculazioni. Dai 50 ai 59 anni sono tanti, perché sono un milione e mezzo abbondanti. Dal 30 aprile qui differisce anche la data di prenotazione a seconda di quanti vaccini ci sono a disposizione, di quanti si riescono a inoculare, a somministrare. 30 aprile se sono tanti, 15 maggio se sono pochi o comunque non così tanti. L'inizio della vaccinazione è fissato per il 19 maggio o il 10 giugno. A seconda se sono... La fine della somministrazione della prima dose, 7 giugno se va molto bene, 16 luglio se va male. Qua la forbice si allarga. Sì, sotto i 50 anni, 14 maggio o 13 giugno per le prenotazioni, la data di partenza delle prenotazioni, 8 giugno, 7 luglio l'inizio della vaccinazione, 18 luglio o 20 ottobre la fine della prima dose. Qui di mezzo c'è agosto, ci sono probabilmente, non so per quale motivo si arriva il 20 ottobre. C'erano con un salto notevole. Secondo me rende realistico tutta la... Allora, innanzitutto... Buonasera a tutti innanzitutto. Bene che finalmente ci sia una pianificazione. Assolutamente. Io francamente ogni volta che vedo queste pianificazioni poi rimango molto deluso perché le speranze sono sempre superiori. Quel 20 ottobre secondo me rende realistico tutto il piano. Perché se mi si viene a dire che si arriva alla fine dell'estate partendo dalla situazione che si ha per concludere il piano vaccinale, io posso anche crederci... Però quella è la prima dose Gianluca, finire la prima dose il 20 ottobre sarebbe un fallimento per me. Per tutti? Perché è la prima dose, eh sì, però è solo la prima dose. Scusatemi, qua stiamo parlando della Lombardia. Io ho fatto un conto, sono meno di 8 milioni di persone, immagino che gli altri siano minori di 18 anni e quindi non sono applicati. Sono 7 milioni e 6. Noi abbiamo la disponibilità entro il giugno e luglio di 60 milioni di vaccini per il Paese, io lo spero, però mi sembra una cosa molto irrealistica, partendo da questo posto serio. Con tutti i ritardi che ci sono stati. E allora dire il 20 ottobre mi sembra una cosa ragionevole, considerate le esigenze di tutto il Paese. Dire il 18 di luglio e quindi ipotizzare che noi entro il 30 di giugno abbiamo 50 milioni di vaccini a disposizione, secondo me stiamo dicendo una cosa che non è vera. Poi, io lo posso sperare, lo possiamo sperare tutti ma non mi sembra serio. Poi in realtà, scusami, sto per capirci, qui finisce la somministrazione della prima dose, però c'è Johnson & Johnson che hai fatto la prima, hai fatto tutto. Beh, beh, anche quelli che fanno Johnson & Johnson. C'è anche da capire quello, alcuni sono già a posto dopo l'aprivo. Ma la seconda è un massimo di 3 mesi, 2 mesi. Se a AstraZeneca sono 3 mesi, se no passa un po'. Quindi nella peggiore delle ipotesi, sostanzialmente, luglio, agosto, settembre, ottobre, quindi noi già ottobre, comunque fino ai 59 anni, avemmo ultimato tutto. Ah sì, 59 sì, teoricamente. Che sono quelli più a rischio. Prima e seconda dose. Teoricamente sì. Che è quello che secondo me fa, è la differenza reale, concreta, perché sono tutte le persone veramente fragili che questa patologia mette concretamente a rischio. A 49 anni la mortalità è molto bassa e certamente… Statisticamente, che non significa che non è pericoloso, ma statisticamente diciamo che è come prendere una brutta influenza per un infa 45enne sano. Statisticamente, poi purtroppo… Che la statistica ci sta dicendo, poi con tutte le caudelle… Ecco, domanda. Le istruzioni dicono che ci si può iscrivere o col call center, o col sito, con l'indirizzo, la piattaforma, oppure con gli sportelli Postamat, oppure con i portalettere. Sì, dipendo il codice fiscale, la tessera sanitaria invece del Postamat. Ma il portalettere io non ho capito come funziona. Quelli che hanno il palmare. E ma dove li fermo? Per strada dico buongiorno, mi scrive. No, quando vengono a portarti la lettera a casa… Quelli fiacco sul palmare quando… Eh ma devi aspettare che vengano a casa tua. Sì, sì. Con l'occasione che la ho capito. Ah, quando passano di lì, buongiorno, mi scrive. Visto che ci siamo, mi scrive. Presso che tutti i giorni passa il posto. Esatto, tra l'altro. Ah, presso che tu, certo. Mi sembra, non so se funzionerà, ma mi sembra intelligente come metodo. Il problema è sempre quello, esatto, vedere la funzionamento. Beh, praticamente sostituiscono i farmacisti, mentre prima erano i farmacisti che facevano gli intermediari sugli oberi. Vengono a casa. Quando in farmacia devi andare, il postino viene a casa. Quindi per la persona di una certa età ovviamente è molto peccato. Complimenti in un minuto? Cos'è che era? L'hai buttato via? Complimenti perché in un minuto ho prenotato senza coda al primo giorno molto soddisfatta. Un altro dice un minuto alle ore 8 prenotato. Peccato che su Milano città propone anche l'ospedale di Vimercate, perché poi queste cose sono meravigliose. Tu sei abiti, non so, a Vimodrone. Ah, te racconta il tuo caso. Un abitante di Segrate, prenotazione, tu potevi scegliere il giorno, l'orario. E una scelta tra due centri vaccinali. Uno è Cernusco che è attaccato a Segrate, l'altro via Ippocrate che è ad Affori. Cioè devi attraversare la città per andare da Segrate a via Ippocrate. Ci sono ancora delle storture. Ce ne sarà un vicino di via Ippocrate da proporre, è quello che non ho capito francamente. Vabbè, però in quel caso scegli Cernusco. Sì, però se tutti scelgono Cernusco, prima o poi Cernusco ha finito i slot vaccinali di qualcuno. È evidente, come diceva il professor Pregliasco, che questi sono piccoli problemi in una campagna vaccinale che è, diciamo, epica. Sì, sì, no. Non è che stiamo parlando di una normale campagna vaccinale. Cioè stiamo parlando di una campagna vaccinale che deve riguardare tutti, non solo tutti i lombardi, tutti. Quindi è uno sforzo in mano. Quindi è chiaro che può capitare che se invece di andare a Cernusco vai in via Ippocrate, certo è sicuramente un disagio, però secondo me è meglio che quelli che andavano da Milano a Mantua. No, poi scendendo di età, chiaramente ancora 75-79, scusate, 75-79 magari hanno ancora qualche difficoltà, ma poi scendendo di età uno si piglia la macchina e va. Ma non è tanto quello, è che secondo me ha ragione di lui, è il problema di affinamento del sistema. Anche perché esiste Ville Turro, esistono tanti posti più vicini all'est di Milano rispetto a una roba che ha ovvio. Ricordiamoci sempre che dietro ai sistemi informatici ci sono delle persone. Quindi ci sarà qualcuno che ha insegnato alla macchina l'abbinamento per CAP rispetto ai comuni della provincia con l'ospedale più vicino più un altro. Magari questa cosa va a finale. Va bene, seconda domanda. Le farmacie, che ruolo hanno in tutto ciò? Me lo spiegate perché c'è stato l'accordo con i farmacisti, i farmacisti possono, devono vaccinare, senza anche la presenza del medico perché mi spiegavano che nel caso di shock anafilatico chiami l'ambulanza e l'ambulanza arriverà presto. Però non mi sembra che nel portale siano previsti i farmacisti. Non lo so se a qualcuno che oggi ha prenotato e è stato proposto a una farmacia, non credo. Non lo so, però io ho letto le dichiarazioni anche dell'ordine dei farmacisti, già da settimana prossima iniziano a vaccinare. Quindi presumo che siano già all'interno di 75-79 anni. Quindi vuol dire che qualche 75enne si troverà come scelta la farmacia sotto casa? Penso proprio di sì. Si parlava di 90.000 vaccini in più al giorno con i farmacisti, cioè 30.000 farmacie in grado di ognuna vaccinare, cioè effettuare 30 vaccini. Quindi probabilmente dalla prossima settimana chi si iscriverà avrà nelle possibilità, non solo i centri vaccinali, ma da quello che mi state dicendo, anche qualche farmacia, perché non sono tutte quelle che hanno aderito ovviamente. Va bene, però il problema è anche un altro, ovvero quello dei fragili. Eh, qui infatti è arrivato subito. E le persone fragili, punto di vista... Allora, c'è questa delibera, è una delibera questa, no? Sì. Questa qua, della regione Lombardia. E non leggo fin là, ma... Sì, è una delibera, è una determina, non lo so. Che spiega come avviene la vaccinazione... Questa è una determina, non è una... Attraverso i centri specialistici, oppure attraverso altri canali, ma io non ho capito come. Allora, adesso, dopo la pubblicità, ci colleghiamo con un medico di base, perché l'ho messo a studiare, e le ho chiesto, perché siccome sono coinvolti anche i medici di base, quindi cerchiamo di capire come una persona fragile può prenotarsi, e soprattutto chi è fragile, perché anche questo non è chiaro. Cioè, se una persona ha avuto un tumore o ha avuto un infarto, è fragile? Chi è più fragile delle due? Dopo la pubblicità ne parliamo, ma tra poco. Allora, allora, eccoci, abbiamo parlato di categorie di età, ma poi c'è un altro gruppo, che è il gruppo dei fragili. Anche loro, dal 9 di aprile, giusto, quindi dal lunedì prossimo, possono prenotare, ma noi, tra ieri e oggi, non abbiamo ancora capito come funziona. Abbiamo questo foglio della regione Lombardia, che spiega qualcosa in maniera un po' complessa. Ci facciamo aiutare dalla dottoressa Anna Carla Fossi. Quello che chiede Ferruccio, cioè per cardiopatici, diabetici, eccetera, eccetera, non seguiti da strutture, perché quelli seguiti da strutture li prendono in carico gli ospedali, in case di cura. Che succede? Ecco, lo ci facciamo aiutare dalla dottoressa Anna Carla Fossi. Buonasera, dottoressa, medico di medicina generale. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, quelli che sono in carico negli ospedali, lo sappiamo, li stanno già chiamando e quindi lì, quello che ho capito la parte, è chiaro. Adesso parliamo dei fragili o dei cronici che non hanno un ospedale alle spalle. Allora, chi stabilisce se uno ha diritto e poi questo se ha diritto come fa a iscriversi? Tu cosa hai capito? Allora, quello che ho capito io è innanzitutto dobbiamo fare la differenziazione tra fragile e cronico. Il soggetto cronico non sempre è fragile. Vorrei fare un esempio, per esempio il diabetico. Il diabetico che è in cura con una pastiglia o due al giorno non è fragile. Il diabetico che ha delle complicanze, che ha un'insufficienza renale, che ha una cardiopatia, che ha varie patologie, invece è un fragile. Per cui, questo per fare l'esempio, che pur avendo lo stesso tipo di patologia cronica, non è detto che il paziente sia fragile. Quello che io ho capito è che tutti i pazienti che hanno la legge 104, che è della disabilità, rientrano nella categoria dei fragili. Ok, va bene. Ma questo era abbastanza scontato, scusami. Scusami, Anna. Questo era abbastanza scontato. E tutto il resto? Ci sono molte persone che, pur avendo diritto alla legge 104, magari non l'hanno mai richiesta. E adesso non stiamo dicendo che la devono richiedere, perché sennò ci impiegano moltissimo tempo. E spero che se oggi partisse una domanda per legge 104, ora che arriva l'approvazione avremo finito la campagna vaccinale. Per cui non chiedetela. Per cui non chiedetela. Potrebbe essere che l'altra differenziazione sulle esenzioni la vedo difficile, perché faccio l'esempio del diabete, il diabetico semplice ha la stessa esenzione del diabetico complicato. Per altre patologie invece potrebbero essere... Scusa, Anna. Quindi tu stai dicendo che avere l'esenzione non è un elemento sufficiente come discriminante. Perché, che ne so, c'è l'esenzione delle paratiroidi. Sto pensando delle varie esenzioni. Quella non è un'esenzione che ti rende fragile, credo. No. Non so. Tutti gli ipotiroidei, gli ipertiroidei, è difficile che siano dei fragili. Lo stesso, parliamo delle cardiopatie. Sì. Chi ha avuto un infarto che è ben compensato, che è ben seguito, che ha messo il suo stent, non è un fragile. Diventa fragile nel momento in cui sviluppa uno scompenso cardiaco, e noi lo scompenso cardiaco lo suddivisiamo in quattro classi, quindi direi che il fragile forse rientra nella classe 3 e 4, e non nell'1 e 2. Per cui capite che ci sono delle linee di demarcazione, per definire un fragile, che sono anche molto sottili tra di loro, molto difficili da interpretare. Infatti quello che noi abbiamo chiesto, come medici di famiglia, è di avere delle linee guida precise per poter capire chi vaccinare e come e quando. Perché questo è fondamentale. Cioè tu non sai tra i tuoi pazienti chi è fragile e chi non lo è? Semplificando all'osso. Io lo so perché li conosco molto bene. Scusa, scusa, mi sono espressa male. Tu non sai chi ha diritto. Esatto, bravissima. Sì, esatto, questo è. Però so che oggi mi sembra che sia arrivata nel mezzo del mare magnum delle email che ho ricevuto. Ho visto una mail di ATS Milano Città Metropolitana che ci sta chiedendo di fare degli elenchi sulle persone fragili. Quindi stanno chiedendo il nostro aiuto perché secondo me l'unica figura che effettivamente può capire se quel paziente rientra nella fragilità una volta stabiliti i paletti penso che sia il medico di famiglia. Così come hanno chiesto il nostro contributo per capire chi ha diritto alla vaccinazione domiciliare e chi no. Ci hanno mandato gli elenchi e noi abbiamo detto chi. Però scusami, ad esempio, se un paziente si va a curare in un centro privato e il medico di famiglia, tu sai che tu sei brava e bravissima come altri, altri non è che sono così attivi, medici di famiglia. Quindi magari un paziente non si fida, non gli interessa andare dal suo medico di famiglia, va a farsi curare, che ne so, al San Raffaele, quindi il medico di famiglia manco lo sa che quello è fragile. Quello come si fa a farlo vaccinare? Se non è passato dal medico di famiglia? Non lo sai? Non lo so, adesso ci chiariranno le idee. So che vogliono anche estrapolare la situazione non solo sull'esenzione ma incrociando anche il consumo di farmaci di ogni persona. Ok, sì, anche quello. Quello già sarebbe più attendibile che non l'esenzione. Certo. Quindi so che ci sono varie modalità per arrivare al fragile. Sì, c'è un piccolo problema perché io so che la Pozzi, come tanti altri medici di tanti comuni, anche tramite i propri sindaci, che poi avevano il contatto con ATS, chiedono da tanto tempo di sapere i fragili chi sono, cosa devono fare, come devono fare, perché so che succede questo. E siamo arrivati al 2 di aprile che sta cominciando le prenotazioni dei 75-79 e due settimane fa ancora non c'era da parte di ATS nulla. Adesso sta dicendo la Pozzi che è arrivata forse una mail, stanno cercando di capire chi sono, mi sembra che siamo comunque un po', come dire, bastoni, lievemente in ritardo. Se il 9 bisogna cominciare a prenotare non sappiamo neanche chi sono i fragili, non mi sembra una roba. No, beh, in linea generale sì, sappiamo chi sono i fragili. Diciamo che ci sono alcune categorie che bisogna forse un attimino interpretare. Eh sì, cosa hai detto, Anna, scusa? Sì, no, Dico, ha ragione, ci sono alcune categorie di cui bisogna un po' chiarire, alcuni sono molto chiari. Certo. Diciamo che in linea generale sappiamo chi sono i fragili e anche chi sono i cronici. Abbiamo stabilito che tutti quelli che rientrano nella legge 104 sono comunque considerati fragili. E quelli intanto li prendiamo, ok? Restano gli altri che appunto tra esenzioni e consumo di farmaci bisogna incrociare i dati e tirar fuori. Stiamo facendo una campagna vaccinale a 8 milioni di persone, cioè voglio dire, pensare che tutto sia immediato e subito vi sia una soluzione a tutto diventa molto, molto difficile. Anna puoi stare lì che mando la pubblicità, torniamo tra due minuti e andiamo avanti a parlare di questo. Abbiamo anche una serie di domande di tutti i tipi per te stai lì con noi a tra poco. Allora, rieccoci sempre con la dottoressa Pozzi, cerchiamo di capire chi sono i fragili e chi quindi ha diritto a essere vaccinato nella fase che parte con le prenotazioni dell'unidì prossimo. Domande? Le faccio un po' insieme. Random. Allora, buonasera, ho un'invalidità del 75%, in che categoria sono? Ecco, già lì dici, bisognerebbe capire. 75% dice poco, dipende dalle patologie che ha. Uno al 75% comunque potrebbe non essere fragile. Ok, andiamo avanti. Poi qualcuno dice, ma quelli che non sono residenti, fragili che non sono residenti, dove si vaccinano? Si possono vaccinare? Perché magari sono qui perché si stanno curando. Se sono qui perché si stanno curando, sì. Beh, aspetta un attimo, non lo potrò non fare come mio padre 87, ah no? Perché il suo padre si vede che non ha la residenza in Lombardia. Esatto, esatto. Risposta, Anna? Io ho visto oggi che un paziente tentava di prenotarsi perché ha un medico di famiglia in regione Lombardia, ma è un'iscrizione a termine e il sistema non l'ha accettato. Quindi dobbiamo chiarire anche questo passaggio perché credo che sia importante. Poi quattro bypass, tre stent, un'ablazione. Sono fragile? E bisogna vedere in quale classe delle quattro classi NIA che ci sono cade il paziente. Il fragile è di solito la terza e la quarta classe. Sì, però scusami, ripetimi che cosa ha avuto? Quattro bypass, tre stent e un'ablazione cardiaca. E forse non è fragile? Eh, pensa a poco. E bisogna vederlo il paziente. Francamente potrebbe stare molto bene. Adesso probabilmente non è così, però non mi sento di dire che è sicuramente fragile senza conoscere esattamente com'è il paziente. Avanti. Poi c'è, sono diabetica, tre pastiglie al giorno, qui parlava prima di due in realtà parlava. Sì. Ipertesa, apnee notturne con C-PAP, sindrome metabolica, glaucoma, fibromialgia con 104,1. Se questa non è fragile io non voglio sapere più niente. La 104 però deve avere il coma 3 articolo 3, per essere definito disabile. E però prende tre pastiglie al giorno per il diabete, ha una serie di altre cose, penso che possa rientrare, no? Non è detto? Non è detto neanche con tre pastiglie al giorno. Allora, per quanto riguarda la legge 104, per essere legge 104 di disabilità deve avere il coma 3 articolo 3, la signora ha il coma 1, quindi vuol dire che è inferiore rispetto alla disabilità piena. Poi vedremo di capire quale 104 potremmo far valere, io questo non lo so. Ma io qui però nella categoria 1, elevata fragilità rispetto al diabete, ed era quello che diceva anche la dottoressa, soggetti con diabete di tipo 1 oppure di tipo 2 che necessitano di almeno due farmaci per il diabete o che hanno sviluppato complicanze. E qui vengono inseriti in categoria 1. Quindi in teoria se questa prende un repastiglio. Ma era l'esempio che facevo prima, il diabetico può essere un diabete molto semplice, curato solo con degli pubblici emizzanti orali e basta, invece possiamo passare, innanzitutto il diabetico tipo 1 è sicuramente insulino dipendente, quindi deve fare l'insulina tutti i giorni. Poi bisogna vedere anche il tipo 2, se fa l'insulina, se ha delle complicanze, perché il diabete a distanza sviluppa molto complicanze, tra cui l'insufficienza renale, le vasculopatie, le cardiopatie e chi più ne ha più ne metta. Per cui dipende da che tipo di diabete e in quale fase si trova in quel momento il paziente, secondo me. Scusa Anna, ma non si riesce quindi a quantificare quante sono queste persone fragili nella regione? Non sai chi sono. Perché non si sa chi sono e quindi non sappiamo quante sono. Secondo me riusciamo a contare i 104 sicuramente, ma tutti gli altri che non hanno esenzione e che sono fragili, secondo me non ci riusciamo a quantificarle. Sì, d'altra parte, ma ha ragione Bastoni quando dice che la cosa è complicata, però bisogna metterci subito al lavoro per capire chi... Perché io poi, insomma, non vorrei che poi si scatenasse la corsa, no? Perché poi alla fine c'è un calendario con delle fasce di età e alla fine uno entra nella fascia di età, no? Ateniamo anche presente che molti dei fragili sono di età avanzata, per cui se non rientra come fragilità ci rientra come età. Perché adesso sono stati vaccinati gli ultraottantenni, molti di questi erano fragili e comunque sono stati vaccinati. Adesso siamo passati dai 75 ai 79. Una certa percentuale di queste persone è sicuramente fragile e poi via via, pian pianino, insomma, secondo me ci arriviamo. Oggi è il 2 aprile che è la giornata per la consapevolezza di chi ha l'autismo. Lì, ad esempio, sono disabili, sono considerati, penso, fragili. Li stanno già vaccinando perché è un ragazzo che domani... Perché quelli che sono in cura in un certo modo sono già vaccinati, altri stanno aspettando di capire quando possono chiederlo. Loro e i loro care giver che sono i genitori. Che avranno diritto anche i genitori, sì, esatto. Ad esempio questa è una cosa che proprio oggi, 2 aprile, si può dire di provare a risolvere nel giro di un anno. No, in dubbio, teniamo conto, tornando alla questione dei fragili, che sostanzialmente questo lavoro andava fatto prima. Perché secondo lo spirito della fase 2 della vaccinazione nazionale doveva essere la priorità. È evidente... Capire subito chi sono le persone fragili. Non ha funzionato. È evidente che questa cosa può essere fatta solo in parte, in maniera automatica e meccanizzata. Perché in parte non si può non passare dai professionisti, medici di famiglia, che conoscono le persone. Perché è chiaro che poi al di là dell'interpretazione sulla singola patologia, io credo che la condizione di fragilità sia una condizione sostanziale che ovviamente necessita di presupposti di patologie di fondo, ma che poi, come giustamente la dottoressa stessa ci dice, su situazioni che potrebbero sembrare all'occhio del comune mortale assolutamente gravissime, giustamente la dottoressa ci dice, è da capire se effettivamente poi questo determina... Cioè tu dici, andrebbero normate. La fragilità andrebbe normata a mettere un numero, un codice, in modo che c'è un'oggettività. Andrebbe normata in termini assoluti su un discorso di ampio raggio della medicina. In questa situazione non si può pensare di farlo adesso. E però bisogna trovare una soluzione, cioè una soluzione va trovata. Adesso necessariamente in parte con le patologie, in parte io credo grazie all'aiuto dei medici di base. Infatti hanno chiesto di fare liste a loro. Non vedo alternative concrete e serie. Però questo chiaramente è un po' incompatibile, naturalmente con un sistema automatico e velocissimo. Cioè è evidente che purtroppo del tempo l'abbiamo perso. decine di messaggi. E non si può recuperare. C'è niente che dice, ho questo, 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 sono un fragile, ho questo, questo, questo. Allora chiariamo che non possiamo rispondere. Non possiamo rispondere. No, però qualche indicazione la dottoressa la sta dando. Alcora dicendo tu sì, tu non lo so. Sì, sì, certo. Oppure tu no. Sì, ma si deve conoscere il quadro clinico. Io penso che anche la dottoressa abbia difficoltà enunciando la patologia. Vuoi leggerne ancora un paio? Dopo le chiedo ancora un'altra cosa. Altre due domande a lei? Certo. Allora. Come fai? Perché poi voglio chiederle del centro vaccinale e dei farmacisti. A parte che ci stanno scrivendo in tanti che l'ordinanza nazionale di Figliuolo dice che anche quelli non residenti devono essere vaccinati e pare che in Lombardia, se veramente quello che è successo è che gli dicano di no, stanno sostanzialmente... Bastone, ti informi? Interessi anche a voi? Sì, il problema sostanziale è che il numero dei vaccini è quello. Cioè io capisco che tutti... Ho capito, però sei Figliuolo che è quello che sta organizzando tutti e dice che devi vaccinarli, non è che puoi dire di no. Devi mettere anche lui in lista d'attesa. Certo, però poi i vaccini sono quelli. Ho detto. Però faglielo prenotare se ha diritto di prenotarsi. Adesso verificheremo se ci puoi. Ma il problema sostanziale è che poi non ci sono i vaccini. Cioè noi possiamo dirci tutto quello che vogliamo. Sui fragili e non fragili, grandi fragili o meno, i non residenti, tutti vogliono fare il vaccino. Questo è chiaro. Però i vaccini non ci sono. Sì, però non ci sono neanche per me o per te allora. Non ci sono. Non è che io e te abbiamo una priorità sui fragili. No, assolutamente. Siamo tutti uguali. Però voglio dire, se ormai siamo quasi all'86% di vaccini inoculati rispetto a quelli che sono stati consegnati, quello era il numero. Cioè non è che potevamo... Beh, però adesso ne stanno arrivando altri. Si spera, si spera. Ad oggi i numeri sono quelli. Tenuto conto che una riserva del 30% sarebbe dovuta essere comunque mantenuta in caso di emergenza, di seconde dosi. E non è stata tenuta da nessuno. E non è stata tenuta da nessuno. Ma nonostante noi siamo all'86% in Lombardia, ancora ci si dice che c'è gente che non è stata vaccinata. Ma i vaccini sono quelli. No, no, ma quello quello, non è quello il punto. Ultima domanda che voglio fare, due domande. Quanti sono stati vaccinati in Lombardia? Un milione e 300 oggi. Un milione... No, quattro. Sono rimasta a un milione e 3,80 oggi pomeriggio, quindi forse siamo in realtà un milione e 4. Allora, qui c'è, ho la mamma di 93 anni, terapia TAO con 104, articolo 3,3. Vi chiedo, posso considerarla paziente fragile? Sì, ma non è che lo può considerare lei. È proprio paziente fragile. Quello è proprio certificato. È già considerata. Bravo, almeno qualche risposta. Almeno una risposta a qualcuno. Qualcosa la sappiamo, dottoressa. Ma anche questa, secondo me, sono paziente oncologico in terapia. Con legge 104, invalidità al 100%. Sono fragile? Sì, perché se sei in terapia, sicuro. Ma lo chiama già l'ospedale, se sei in terapia? In teoria, sì. Dovrebbe chiamarlo. Si ma lo specificava quella tabella con le patologie, però, per il paziente oncologico in terapia o che non l'abbia ultimata da 6 mesi? Da oltre 6 mesi. Poi un'altra? Operata di anuburisma cerebrale. Sono considerata fragile. Qui bisogna capire quando. E quali sono i danni? E quella è già più complicata. No, e se ha dei danni. Magari, esatto. E' già più difficile questa. E no, perché bisogna capire quali danni ha avuto, no? Se sta benissimo come prima, non credo che sia fragile. No, non è fragile. Il meccanismo è quello. Se stai bene, non hai diritto. E ce ne sono mille. E ce ne sono mille ancora. Senti, dottoressa, mentre lui cerca qualche altra domanda. Visto che prima parlavamo dei farmacisti che vaccineranno, ma ancora non sono comparsi nelle prenotazioni che vengono proposte dal portale Poste. Voi invece come medici di famiglia state organizzando dei nuovi centri vaccinali. Sto parlando della tua esperienza particolare. Sì, allora noi come medici di famiglia abbiamo presentato un progetto già da parecchio tempo. Il progetto sta andando avanti. Dovremmo essere pronti, sempre sperando che ci siano i vaccini, perché condivido con quello che è stato detto prima, ci devono essere vaccini per poter vaccinare. Riusciremo ad aprire perlomeno in ATS Città di Milano due centri vaccinali con due linee. Uno sarà a Basiano e l'altro a Vimodrone. Però noi non compariremo sul portale di Poste italiane, ma fisseremo gli appuntamenti da soli. Cioè, come funziona quindi? Funziona che noi avvertiremo i nostri pazienti e se vorranno venirse a vaccinare da noi, li invieremo al centro e noi abbiamo un nostro portale, come cooperativa di medici di famiglia, abbiamo un nostro portale che fissa gli appuntamenti. Ma quindi magari anche le farmacie faranno così e non entreranno nel portale? Tu ne sai qualcosa? Perché io questo non l'ho capito. Se le farmacie rientrano nel giro del portale delle Poste o saranno come i vostri centri, autonomi? Noi so che saremo autonomi. Noi avremo un centro situato ad Albino, provincia di Bergamo, che sarà dentro nel portale, ma ancora non c'è, non verrà messo. Gli altri invece che sono più piccoli non verranno messi sul portale e saremo autonomi in tutto e per tutto. Quindi ci sarà anche questo canale parallelo per vaccinarsi, no? Voi dovete dire al portale che avete vaccinato Tizio e Caio. Allora noi siamo organizzati con medici di famiglia, personale amministrativo e infermieristico. Quindi la catena è il paziente che arriva, viene fatta la scheda anamnestica dal medico, gli viene fatto firmare il consenso informato, viene fatto l'inoculo generalmente dall'infermiere e poi c'è l'amministrativo che inserisce nel portale, non sappiamo se sarà ancora il SIAV o quello di poste italiano, la vaccinazione avvenuta. E contestualmente rilasciamo al paziente la certificazione della vaccinazione. Il paziente attende 15 minuti, avremo una sala urgenze per intervenire se il paziente sta male e dopo 15 minuti se ne torna a casa e poi fisseremo l'appuntamento per la seconda dose. E sì, questo ripeto, come fate voi, presumo che lo facciano anche altri medici di medicina generale, no? E questo sarà quindi un canale parallelo a quello, diciamo, più grande, no? Più, magari, neanche dire più ferraginoso, no? Perché sta funzionando bene, però... Ci sono due possibilità. Uno è la medicina generale organizzata in cooperative. Ci sono anche cooperative in insubria, insomma, sparse per la Lombardia. L'altro, invece, noi come medicina generale abbiamo già firmato sia un accordo regionale che un accordo con le varie ATS per poter vaccinare, ma a questo punto la categoria di persone che non hanno patologie, quindi che arriveranno dopo, per poterle vaccinare nei nostri studi se abbiamo i locali idonei per poterli vaccinare. Va bene. Allora, grazie per il tuo contributo. Poi speriamo, alla prossima volta che ci colleghiamo, che ci sarà l'elenco dei franci. Sì, no, più che altro perché... Quando c'è, eventualmente, ti giriamo tutti gli SMS che sono arrivati. Sì, perché a noi piace... No, ma a noi piace cercare di aiutare la gente che ci guardano. Poi qualche volta ci riusciamo anche, quindi, insomma, questo ci fa piacere. Va bene, grazie dottoressa Pozzi, a presto, buon lavoro. Grazie a voi, buona serata, arrivederci. Allora, noi abbiamo ancora una lunga serata perché con voi dobbiamo parlare di un'altra cosa che è la questione economica perché andiamo verso le vacanze di Pasqua, vacanze un po' per modo di dire perché c'è un sacco di gente che va all'estero perché può farlo, mentre in Italia non si può. E questo ha mandato su tutte le furie, ovviamente, gli albergatori. Dopo la pubblicità parliamo con un rappresentante, anzi il presidente di Federalberghi di Riccione perché sono inferociti perché giustamente loro continuano a essere chiusi da diverso tempo. Dopo, però, dopo le 22, invece, ci spostiamo nei quartieri perché andiamo a vedere il nuovo Corso Sempione non solo, ma diciamo che il fiore all'occhiello di questa sera è Corso Sempione che cambia. E pian piano. C'è già il collegamento, però devo mandare la pubblicità. A tra poco. Allora, adesso parliamo un po' di economia, parliamo un po' di alberghi, di vacanze. Ci sono almeno 2.500 milanesi che andranno a passare le vacanze di Pasqua in Spagna, soprattutto nelle isole. Ci sono diversi voli prenotati a Milano-Malpensa e, insomma, sono tante le famiglie che vogliono passare qualche giorno fuori e allora cosa fanno? Visto che in Italia non si può andare, andiamo al caldo, ad esempio, alle Baleari. No, no, lo diceva anche prima Pregliasco. Magari ci si dà appuntamento alle Baleari e si fa un po' di assembramento lì. La cosa non è stata gradita molto dagli albergatori italiani che sono chiusi da un sacco di tempo e continueranno a essere chiusi per un po'. Allora, ne parliamo con Bruno Bianchini che è presidente di Federalberghi di Riccione. Buonasera intanto e grazie per aver accettato l'invito. Buonasera a voi, buonasera a tutti gli intervenuti e grazie a voi per l'invito. Allora, come lei sa, noi abbiamo questo filo diretto anche col sindaco di Riccione, no? Che ogni tanto ci colleghiamo spesso con lei, quindi ormai siamo di casa a Riccione. Allora, voi vi aspettavate di avere un po' di qualcuno in queste vacanze? Fino a quando? Ci credevate davvero oppure in realtà già sapevate che sarebbe finita così? No, onestamente non ci credevamo. Sapevamo che probabilmente la Pasqua sarebbe stato un momento in cui il turismo, almeno dalle nostre parti, non sarebbe assolutamente decollato. Era una cosa oramai che avevamo già dato per scontato. Diciamo che la sorpresa, dopo anche le proposte che avevamo portato avanti a livello nazionale, è stata quella di vedere che un altro tipo di turismo, specialmente diretto verso paesi stranieri e magari anche, adesso fra virgolette, perfino concorrenti, ecco, quello è stato possibile in qualche modo lasciarlo partire. Ecco, questa è stata un po' la sorpresa. e non piacevole, oserei dire. Cioè, il fatto che la Spagna accolga i turisti è quello che non vi è andato giù. Perché il governo italiano che ci può fare in quello? Cioè, voglio dire, il governo italiano non è che può impedire a me di prendere un aereo. Non lo prendo l'aereo, è tanto per capire. Però l'esempio, il governo, Draghi non mi può dire no, tu non prendi un aereo. Se alle Baleari mi accettano. Può metterti dei paletti a rientro. Mi può mettere dei paletti a rientro, però non mi può impedire di andare. Quindi voi che cosa avreste chiesto? Ma no, per carità di Dio, no, assolutamente. Ci mancherebbe. Non siamo più nel Medioevo in cui si poteva limitare la libertà di spostamento delle persone o delle merci. Anzi, succede, però non dovrebbe. Quello che è strano è che sia vietato per noi italiani spostarsi al di fuori del nostro comune allo stesso tempo ci sia concesso prendere un volo per andare alle Tenerife. Ecco questo. Diciamo che è una disparità che onestamente non riesce a trovare una razio che possa spiegarla. Forse ci voleva una norma a carattere europeo. Forse ci doveva essere. Quella era la soluzione in realtà perché era l'unica soluzione. Ma onestamente, onestamente no. Onestamente il fatto che ci sia la possibilità di spostarsi con un aereo e sia impossibile spostarsi in bicicletta questa è una norma italiana ed è una stranezza tutta italiana. Onestamente la comunità europea per carità di Dio avrà tante colpe, tanti meriti non diamo le colpe o meriti che non hanno. Questa è una stranezza tutta italiana. Allora, il ministro del turismo è un ministro della Lega che è Garavaglia che il giorno dopo che si era insediato c'era stato il problema delle piste da sci e già allora aveva detto bisogna in qualche modo aiutare il comparto del turismo. In questo caso qual è la vostra posizione? Ha ragione il presidente di Federalberghi. sicuramente diciamo che è una stranezza quella del fatto che non si possa uscire dal comune ma si possa andare addirittura in un altro paese però io penso che invece sia proprio un discorso che bisognava fare una norma internazionale e le spiego anche perché purtroppo la pandemia non ha colpito solo il nostro paese ma ha colpito tutto il mondo e quindi è chiaro che è un'emergenza tra l'altro la distribuzione dei vaccini avviene proprio tramite Unione Europea quindi per forza di cose poi dobbiamo iniziare perché non è che l'Europa può imporre delle regole quando fa comodo e soprattutto quando riguarda il nostro paese lascia un po' correre e secondo me l'errore è stato proprio questo quello di non andare a far sì che ci fosse una normativa che valesse per tutti i paesi dell'Unione Europea e quindi pertanto diciamo che nel momento in cui ci sono delle zone rosse dalle zone rosse non si può uscire però non si può proprio uscire perché così se no ma come fai a limitare ripeto la situazione delle persone non puoi scusatemi se io posso limitare sotto il profilo costituzionale perché lo storico di emergenza me lo consente la libertà di movimento tra le regioni o addirittura tra i comuni per quale ragione non posso dire che non si può uscire fuori dal paese se non ci so a meno che non vi siano dei motivi di urgenza necessità e così via astrettamente lo posso dire allo stesso modo e non per 5 così esatto posso mettere dei filtri seri all'ingresso che è quello che mi interessa di più sono state fatte delle scelte secondo me sono state fatte delle scelte egoistiche nel senso che innanzitutto purtroppo il turismo ha avuto dei danni impressionanti ma io per esempio credo che molte persone in questi giorni siano mosse a Milano manca tantissima gente guarda che nelle altre regioni con la seconda casa puoi andare non in tutte perché hanno bloccato si ma hanno bloccato da un giorno da due giorni si è andato prima quindi in molti si sono mossi alla fine non si è mosso chi non aveva una casa che avrebbe utilizzato le attività gli alberghi e chi si voleva muovere si è spostato verso l'estero dove oggettivamente con cinque giorni di quarantena la questione è no peraltro i cinque giorni di quarantena sono stati istituiti due giorni fa Bianchini quando Speranza forse sentendo tutte le vostre proteste gli fischiavano le orecchie e ha messo questi cinque giorni di quarantena peraltro io non so neanche chi li controllerà perché se io prendo l'aereo torno faccio il tampone devo stare cinque giorni a casa ma cosa ne sanno che poi non esco di casa cioè anche lì è basato tutto sulla fiducia nel buon senso delle persone un anno fa le quarantene venivano controllate telefonicamente chiamavano ma poi duravano due settimane e però il problema anche lì poi uscivi perché portavi fuori il cane facevi altre cose Bianchini prego prego dica 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 Bianchini ho sentito dire che in questo caso la pezza è quasi peggio della toppa che è andata a coprire onestamente ha anche poco senso adesso io non sono né un virologo né un medico quindi non sono in grado di stabilire quali possono essere i periodi di quarantena validi per evitare eventuali pericoli di spostamenti o di contagi che il virus possa eventualmente dare in caso di importazione di persone che eventualmente l'hanno contratto certo certo è comunque non è non è nemmeno una battaglia nei confronti o tantomeno una rivalsa nei confronti dei colleghi tour operator e operatori del turismo che pur come noi hanno subito da questa situazione dei danni assolutamente incalcolabili rimane comunque una stortura che a tuttora deve trovare una risposta una risposta in un senso o nell'altro dobbiamo riuscire a capire cosa si può fare cosa non si può fare chi lo può fare chi non lo può fare perché se vogliamo consentire mi scusi mi scusi un'altra cosa che non stiamo toccando ma penso che sia un altro problema è che il turista dall'estero poteva anche venire qua c'è anche quella variante là perché non c'è solo non ci sono solo io che da Milano non posso venire nel suo albergo a Riccione ma c'è anche il tedesco che non può venire perché lei è chiuso giusto voi avevate un protocollo aveva pensato un protocollo per un eventuale turismo dall'estero giusto? no i protocolli sono già presenti i protocolli che ci permettono di stare aperti perché a livello puramente teorico gli alberghi non sono chiusi sono fra le attività che possono aprire siamo chiusi perché in mancanza di spostamenti fra comuni ovviamente non c'è spostamento di turisti ma dal punto di vista puramente legale o puramente diciamo pandemico chiamiamolo così e gli hotel sono tuttora possono tuttora aprire e quindi ovviamente andando ad osservare quei quei protocolli che sono stati approvati e che sono stati imposti giustamente dallo scorso anno quando abbiamo riuscito a aprire durante l'estate quello che diceva lei è perfettamente valido bisogna tenere presente che io ovviamente parlo da una città di Riccione che è una città prettamente balneare ma bisogna tenere presente che all'interno della nostra categoria ci sono attività annuali e ci sono professionisti ed attività nella città d'arte che ovviamente avendo l'opportunità di importare del turismo estero dopo 12 mesi di lavoro praticamente zero sarebbe stato sicuramente una certa boccata di ossigeno perché no? perché no Corrado è giusto così? ma perché secondo me si sono fatte delle valutazioni e si è semplicemente ritenuto non opportuno non sufficientemente cauto in questo punto fare questo tipo di scelta il discorso questa è la verità perché questa è la valutazione che si è fatta secondo me egoisticamente si è fatta una valutazione a contrario pensando di poter bloccare l'eventuale importazione del virus il tedesco che veniva qua che non voleva esatto non volevamo il francese e il tedesco che venivano qua e questo ovviamente ha importato perché poi nel momento in cui al tedesco gli consentiamo di andare in giro per le regioni i giorni di Pasqua e all'italiano no diventa complicato secondo me pure da gestire una situazione di questo tipo quindi tu dici psicologicamente così almeno c'era diventa complicato perché voglio dire se nel momento in cui io posso arrivare arrivo a Roma salgo in Lombardia faccio un giro magari vado un attimo in Piemonte poi torno come si faceva prima io sto dentro casa e magari non posso vedere la mia famiglia il turista non si capisce perché ciò si deve ammettere secondo me il ragionamento è evidente l'altra cosa che loro dicono è perché io posso andare nella mia seconda casa in Emilia Romagna ad esempio se io avessi una casa Riccione lì ci posso andare invece nell'albergo di Bianchini non ci posso andare però attenzione perché bastoni perché allora perché se io la casa Riccione sia nel suo albergo no no allora innanzitutto le seconde case alcune regioni per esempio la Liguria non puoi andare in altre regioni sono una decina di regioni in Val d'Aosta in Val d'Aosta quelli non residenti che hanno le case il Piemonte da domani in Emilia Romagna evidentemente hanno ritenuto che sulle seconde case si potesse andare e questa è una valutazione che ha fatto ogni singola no 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 ma infatti parlando dell'Emilia Romagna io sto dicendo se io avessi una casa Riccione lì ci potrei andare cosa cambia se ho il virus lo porto sia nella seconda casa che nell'albergo suo sentato sto solo allora in maniera non ristorante non mangio con altre persone c'è una situazione mangio a casa mia mangio a casa mia e sto da solo io sono assolutamente vicino alle persone alle categorie che in questo momento sono state particolarmente colpite i ristoratori gli albergatori e tutto diciamo che sono state è stato deciso secondo me anche in maniera erronea o meglio se tu obblighi queste persone a tenere chiuso poi deve garantire che ci sia un sostegno dal punto di vista economico e un i cosiddetti ristori se non ristori reali perché è chiaro che i danni e però voi siete al governo sì sì ormai tutti siete tutti cioè Bianchini qua tutti parlano come se fossero l'opposizione ma sono tutti al governo non so ma persima i soldi voi si è piantati non crescono perché il problema è questo allora fermi facciamo così mandiamo la fascia che siamo in ritardo Bianchini lei stia lì due minuti di pubblicità poi vediamo la ricetta finale che poi dobbiamo parlare dei bicicletti tra poco eccoci qua allora prima di passare a Corso Sempione abbiamo detto il problema è che anche se li costringete a stare chiusi almeno dategli dei soldi i sostegni e non i ristori visto che abbiamo cambiato i nomi gli indennizi ecco Bianchini che cosa chiedete a questo punto? è molto semplice bisogna essere onesti i ristori finora quelli che sono arrivati ovviamente sono assolutamente insufficienti e temo che anche quelli che arriveranno non hanno la possibilità di nemmeno scalfire quello che è stata l'entità del danno né sarebbe onestamente ipotizzabile bisogna essere onesti e bisogna che chi ci amministra sia onesto e ci parli onestamente e ci dica che i fondi per dare del fondo perduto a tutte le aziende che hanno subito delle perdite non ci sono bisogna dirselo chiaramente e bisogna che ce lo diciamo in maniera onesta perché oramai onestamente lo abbiamo capito benissimo allora cominciamo a ragionare su cose diverse dal momento che il fondo perduto è una cosa che a livello nazionale ormai è chiaro che non ci possiamo permettere bisogna cominciare a ragionare su un fatto e cioè che le aziende per poter ripartire dopo la pandemia perché ricordiamoci che dopo la pandemia ci sarà una ripartenza che sarà costosa che sarà costosa e allora le aziende per poter ripartire avranno bisogno di una liquidità liquidità che purtroppo non potrà essere a fondo perduto ma dovrà essere a debito quindi sarà necessario predisporre dei finanziamenti ventennali e o trentennali garantiti dallo Stato e a tasso zero che sostituiscono quei ristori a fondo perduto che comunque date all'entità sono inutili e che permettano alle aziende di comprare il tempo necessario per riorganizzarsi per ristrutturarsi e per ripartire ma questo in realtà già c'era stato come dire un'idea anche in regione Lombardia di fare anche questi prestiti chiamiamoli così con garanzia c'è stata anche un'idea a livello nazionale ma ci sono solo le idee è il momento di realizzarlo però la via è quella corretta perché quello che dice lui è serissimo cioè serissimo quando si dice non ci sono i soldi per compensare la perdita di tutti a fondo perduto è una cosa che ci dobbiamo dire perché è la realtà dei fatti è serissimo quando dice la soluzione può essere trovata con delle norme dello Stato che finanziariamente aiutino le aziende assicurandogli di avere della liquidità e di poterla restituire a tasso zero o comunque a tassi vantaggiosissimi in 20-30 anni a me sembra un discorso di una lucidità onestamente assoluta non lo so se andare ad aprire altri debiti perché poi si tratta di debiti da parte di queste aziende sia la soluzione giusta i soldi non ci sono diciamo che forse i soldi necessari per andare a coprire le perdite dell'ultimo anno di tutte le aziende è evidente che è molto difficile non si può fare certo i numeri sono chiaramente sono assolutamente certo però ci sono forme di esenzioni fiscali di sostegni che però possono essere messe in atto dopodiché sì anche la formula del prestito verso le banche è verissimo però lui pone un problema serio cioè lui dice la ripartenza quando finì la pandemia le aziende dovevano ripartire avevano bisogno di soldi però al di là dell'apertura avevano bisogno di liquidità dovevano pagare stipendi dovevano attrezzarsi dovevano riorganizzarsi questi soldi oggi gli imprenditori non ce li hanno va bene è un problema serio scusate io devo chiudere perché siamo abbiamo un problema tecnico con la parte dopo che non ci siamo capiti con l'assessore che si deve collegare via Skype mentre noi pensavamo che venisse qua quindi dobbiamo salutare Bianchini la ringrazio per essere stato con noi e niente spero di collegarmi con lei più avanti nella stagione quando saranno aperti gli alberghi così parliamo della stagione balneare ci mancherebbe va bene no no ma io parlavo di collegarci via Skype grazie ma anche di persone va bene quando potremo muoverci molto volentieri grazie grazie Bianchini a presto in bocca al lupo altrettanto crepi il lupo viva il lupo ok allora adesso ci fermiamo salutiamo Gianluca Corrado e Massimiliano Bastoni mandiamo la pubblicità poi parliamo di Corso Sempione l'assessore Granelli ogni tanto capita che non ci si capisca noi abbiamo capito che veniva qua invece lui eccolo qua Granelli ma hai capito male tu o mi sono espressa male io? non lo so io in agenda ci ho scritto diretta Skype poi allora ce la prendiamo con la nostra amica no scherzo no guarda io ho visto siamo contenti lo stesso di vederti scusami no no ma va bene lo stesso va bene stai lì mando la pubblicità e cambiamo l'ospite in studio a tra poco va bene rieccoci adesso la parte dedicata ai quartieri come tutti i venerdì questa volta andiamo soprattutto partiamo da Corso Sempione e non solo partiamo da Corso Sempione allora intanto risalutiamo l'assessore Marco Granelli che pensavamo di vedere dal vivo invece lo vediamo via Skype ma siamo contenti lo stesso eccolo qua e qui invece in studio c'è Alessandro De Chirico consigliere comunale di Forza Italia che si toglie la mascherina solo adesso eccolo qua buonasera buonasera l'assessore non si è presentato perché aveva aveva paura di te aveva un po' il timore aveva il timore di De Chirico pensavo stesse venendo in bicicletta non arriva più allora siamo partiti da Corso Sempione perché da quanto tempo è che stanno lavorando? una settimana una settimana e mezzo credo che Corso Sempione viene rivoluzionata perché verranno fatte due bellissime piste ciclabili e ovviamente verranno tolti dei posti di parcheggio in estrema sintesi quello che fa arrabbiare sotto gli alberi che sono tollerati diciamo ma non sono mai stati posti regolari perché non è che ci sono le strisce blu sotto gli alberi è il classico parcheggio sul parterre come si dice che in molti casi a Milano è tollerato questa volta si è deciso di e invece adesso le macchine andranno lì dove ci sono le strisce blu quindi saranno posti a pagamento e questo permetterà ai ciclisti di essere molto più tranquilli e felici di andare in bicicletta sotto gli alberi ma cambierà proprio la faccia di Corso Sempione perché questo che adesso è un parcheggio diventerà una sorta di boulevard ciclopedonale il progetto è infatti tu hai fatto questo titolo Champs-Élysées sì perché non sono io che ho ricordato gli Champs-Élysées c'è stato qualcuno credo anche dell'amministrazione che aveva detto potrebbero essere potrebbero essere i nostri Champs-Élysées mi ricordo una frase del genere ho sbaglio ossessore era lei? sì era lei no no non l'ho detto io è giulgi? mi sembra il sindaco comunque è vero è il più bel viale che abbiamo nel Corso di Milano e insomma penso che abbia senso che sia un viale alberato un viale alberato con meno posti macchina però alla fine arriviamo sempre allo stesso punto che gli automobilisti si infuriano perché non sanno dove parcheggiare sì c'è sempre questa diatriba in realtà come si può vedere dalle immagini che state facendo vedere quello non è un parcheggio lì di parcheggi regolari in Corso Sempione ce ne sono circa 700 e noi li portiamo a quelli regolari a mille con questa operazione cioè noi riqualificando rimettiamo a posto i parterre verde restituendoli alla loro funzione con cui erano stati disegnati progettati e vissuti per molti anni dai milanesi e l'uso capisco ecco diciamo non consono del prato del parterre del passaggio pedonale che veniva fatto lungo lungo questi viali alberati lo restituiamo ai cittadini e aggiungiamo 300 posti auto regolari aspetta quindi voi ne mettete 300 regolari che sono quelle le strisce blu e quanti ne saltano? il problema è il conteggio degli irregolari bisogna vedere quanti erano quanti erano prima quasi meno il doppio quindi più o meno il doppio quelli irregolari sono circa un 600 però ecco il tema è quello che quelli erano posti che penso che nessuno si sogna che siano posti normali su cui parcheggiare ecco e quindi noi crediamo che Milano e quest'area abbia diritto ad essere utilizzata dai cittadini oltre che per la tenuta degli alberi perché parcheggiare così non è che faccia bene neanche agli alberi non fa bene ai cittadini non fa bene alle persone che utilizzano tutti i giorni quel viale a chi abita lì a chi lo usa per passeggiare noi aumentiamo i posti regolari una cosa non ho capito perché Jacopo diceva allora queste macchine che sono a lista di pesce queste qui laterali queste sono il doppio quindi sono il doppio di quelle nelle strisce azzurre poi ci sono quelli irregolari che sono a destra quelli parcheggiati quelli che si vedono perché sono due i 600 posti sono entrambi i 600 posti credo che siano tutti quelli che non dovevano parcheggiare ah è tutto ok esatto quindi sia quelli è il conteggio di tutta l'irregolarità che c'è in giro lì ok ok allora adesso ho capito va bene cioè sostanzialmente se ne perdono 300 per fare i conti della serva da quello che diceva ne metti 300 ne togli 600 ce ne sono 300 che ballano sostanzialmente dei chirico non è che uno dice pensava che ci fosse 1500 posti in meno perché vi siete così infuriati no ma io non sono non sono infuriato io credo che Corso Sempione meriti un restyling però prima di fare il restyling a mio avviso bisognerebbe realizzare un parcheggio sotterraneo ma bisogna avere secondo me ulteriore coraggio l'amministrazione dovrebbe togliere completamente le auto in superficie visto che si ispira a tante città europee io penso a Ginecola Evra a Bruxelles dove le auto in strada non ci sono perché ci sono i parcheggi allora io credo che l'amministrazione debba avere il coraggio di toglierle tutte le macchine e metterle nel sottosuolo realizzando un parcheggio realizzando il piano parcheggi di Albertini bravissimo perché adesso se arriviamo stricendo era quella siamo arrivati dove volevo arrivare io lì sotto Corso Sempione ci sono senz'altro sottoservizi l'amministrazione dovrebbe avere tutte le piantine con indicati i sottoservizi visto che il governo sta anche provvedendo a modificare la legge sugli appalti aspettare un momento rivedere il piano e realizzare pubblicare un bando snello rapido a chiamata internazionale a non chiamare solo MM o industrie italiane ma aprire al mercato giapponese cinese e arrivare a fare parcheggi sotterranei e poi ritogliamo tutte le macchine Granelli cosa gli rispondi? questo è quello che noi abbiamo il consiglio comunale su proposta alla giunta approvato nel piano aria-clima nel piano aria-clima c'è proprio scritto questo c'è scritto di dimezzare le auto in superficie che creano questi problemi e realizzando i parcheggi di interscambio i parcheggi e lavorando perché come in tutta Europa ci sia una forma di mobilità che diminuiscono l'uso dell'auto quindi le strategie sono queste ma non c'è solo scritto nel PAC questo è anche in attuazione noi oggi abbiamo iniziato un cantiere che è quello di Via Borgogna di un parcheggio sotterraneo di più di 200 posti auto abbiamo due altri parcheggi in municipio 6 in Largos Calabrini e lì nelle vicinanze per un totale di altri 500 600 posti auto che partiranno anche questi cantieri nel corso di quest'anno che hanno già fatto tutto l'iter e abbiamo realizzato circa 1500 posti in più negli ultimi due anni nei parcheggi di interscambio quindi noi non è che abbiamo aspettato il consiglio che mi fa piacere che mi ha dato De Chirico ecco ma questa è la strategia dell'amministrazione certamente però dobbiamo incominciare da subito a lavorare perché un uso diciamo un po' facile del parcheggio indiscriminato non possiamo tollerarlo perché non fa bene ai milanesi non fa bene a quegli alberi e se ci teniamo la nostra città dobbiamo fare anche in modo di utilizzare di più tutti gli strumenti perché le nostre stade siano più vivibili quindi tu dici qualche parcheggio lo facciamo però non vogliamo incentivare troppo l'uso della macchina io la dico in maniera diciamo che qua ci sono i residenti assessore qua ci sono i residenti i parcheggi di scambio li facciamo in periferia lì non sono tutte auto di residenti lì non sono tutte auto di residenti questo è evidente lo si vede passando di notte vedete delle auto lì ci sono certo ci sono i locali cosa facciamo ci sono i locali non ci sono i metri notturni come fanno a raggiungere i locali ci sono i parcheggi a Milano sono utilizzati per circa il 60% quelli in struttura oggi aspetta fallo finire io dico che noi abbiamo lo vedete perché lo può vedere qualsiasi cittadino noi nell'area del centro del municipio 1 e della prima fascia diciamo abbiamo fatto quei cartelli indicatori in cui si vede il numero dei posti liberi per ogni parcheggio se voi passate vedete ogni giorno al di là delle statistiche che io ho che mi dice che noi occupiamo solo il 60% dei posti dei parcheggi interrati attuali tant'è vero che gli operatori vanno lentamente nel creare questo perché uno finché parcheggia gratuitamente in strada o nei parterre dice perché io devo andare a parcheggiare sotto in 25 aprile c'è un parcheggio che è sempre alla metà perché uno preferisce fare la movida parcheggiando sui passi carabili parcheggiando sul verde però il posti Sempione tanta movida non c'è in fondo all'arco della pace all'arco della pace c'è all'arco della pace sì ma dall'altra parte no le immagini però parcheggiano lì io sono in contatto quando ho fatto delle dichiarazioni pubbliche sono uscito sui giornali con la mia proposta mi hanno contattato un sacco di residenti addirittura c'è un imprenditore che ha la sua attività in corso Sempione il dottor Furgoni che propone addirittura di coprire la linea ferroviaria per realizzare lì parcheggi magari un po' di verde delle attrezzature sportive no dove c'è la linea del treno ferrovie nord quel lato lì si potrebbe le dico l'operatore dove c'è la bullona magari non lo sa l'operatore può fare una proposta di parcheggio interrato quanto vuole funziona così non c'è bisogno di un bando fa la domanda lo troveremo ma l'ha fatto anche adesso abbiamo appena aperto un parcheggio in zona Buenos Aires fatto così un operatore ha fatto la domanda abbiamo messo a gara l'ha vinta e sta facendo il parcheggio Corso Sempione ci vuole un percorso agile non è che arriva l'operatore cioè tu De Chirico vorresti che venisse fatto un parcheggio per quei 300 posti che ballano non 300 ne deve realizzare in tutto lungo l'asse di Corso Sempione togliamo le macchine facciamo come le Ramblas dove c'è una forse una corsia solo di sosta e tutte le macchine le metti nel parcheggio sì però per fare un parcheggio così importante ci vorrebbe un sacco di tempo però siccome il governo sta cambiando la legge sugli appalti siccome si può fare un accordo internazionale facciamolo abbiamo un po' di coraggio facciamo vedere che veramente non avete abbastanza coraggio dice De Chirico Granelli il coraggio ripeto noi li stiamo facendo a me fa piacere che De Chirico ci dia dei buoni consigli li stiamo facendo con gli operatori stiamo incontrando gli operatori e quando c'è un operatore procediamo prima vai al parcheggio in corso sei più i 20 box i residenti il problema che oggi un imprenditore dice se io faccio un parcheggio e quelli che ci sono già sono occupati solo al 60% dice io non metto dei soldi per fare un investimento perché oggi i parcheggi interati esistenti coprono 60% quindi noi siamo disponibili appunto abbiamo aperto oggi in via Borgogna un cantiere nonostante ci abbiano fatto ricorso tutti ma noi abbiamo noi siamo andati avanti abbiamo fatto a Borgogna è stato però se noi mettiamo tante zone che non c'entrano niente adesso stiamo parlando di Corso Sempione il problema è Corso Sempione sono i residenti di Corso Sempione che in questo momento dicono dove cavolo metto la macchina quindi parliamo di loro anche lì attorno ci sono delle autorimesse che non sono tutte piene che non sono tutte piene ok allora bisogna trovare dei canoni agevolati cioè perché io in strada pago 2 euro all'ora e magari al parcheggio adesso non so quelli a cui si riferisca ma se devo pagare 5 euro all'ora nell'autostino dico aspetta di meno tutti i convenzionati hanno tariffe tutti i convenzionati hanno tariffe inferiori ed abbiamo fatto proprio così perché deve costare di più chi crea comunque la comunità utilizza il solo pubblico il problema è questo va bene ci dobbiamo fermare ci dobbiamo fermare e poi continuiamo Corso Sempione e non solo poi parliamo di altri sì no per Corso Sempione stanno arrivando tanti messaggi allora poi facciamo le domande c'è quella cosa iniziale che forse se non ho capito male è stata risolta ma all'inizio è stato un problema anche quello le famose come dire i cordoli esatto cordoli più che strisce gialle che hanno causato qualche difficoltà soprattutto nottetempo si stavano ammazzando ne parliamo dopo la pubblicità qui scrivono anche di quello insomma tra poco allora ho preso il posto di Granelli con la poltrona comoda ecco sì la poltrona io sono solo così manteniamo le distanze migliori allora ci sono domande per Corso Sempione ma su Corso Sempione molti dicono prima bisognava fare il parcheggio interrato continuano a dire parlate solo di parcheggi ma la circolazione impossibile con l'auto a Milano e qui si parla probabilmente delle ciclabili e di varie altre cose parliamo dei cordoli anche quella roba dei cordoli ci sono le immagini perché sono quei cordoli gialli che abbiamo già visto se Domenico Zingaro in regia le fa ripassare si vedono all'inizio sostanzialmente quando il sole non c'era e quindi era tramontato qualcuno le scambiava quasi per strisce nel senso che arrivava non è una via è una via dove dovresti andare a 50 ma diciamo che vai a 55 diciamo così è uno stradone qualcuno ha rischiato qualcuno si è anche qualcuno è caduto è caduto con la moto sono arrivati questi lampeggianti che vedete qui per indenziare che c'è questo ostacolo però è stato messo una settimana dopo più o meno almeno così mi risulta Granelli soluzione fai da te fai da Granelli cioè perché il problema è che forse non bisognava mettere in rilievo state dicendo aspetta che non sento l'assessore adesso ti lo faccio qui è un cantiere qui è un cantiere quindi ci sono i segnali di cantiere perché il completamento prevede il segnale verticale probabilmente mi pare in qualche punto anche in New Jersey però ci scappava il morto a momenti il cantiere forse andava segnalato all'inizio non dopo che ci scappava il morto adesso l'impresa deve segnalare il cantiere come da norma eccetera poi qualche volta prima di farlo il cantiere non dopo se no ma il cantiere allora il cantiere è fatto c'è il responsabile di cantiere che è tenuto appunto a mettere tutte le segnalazioni di cantiere come prevista dalla norma e dalla legge e poi comunque il progetto ha sia la segnalettica verticale come vedete quello non è di cantiere e poi anche probabilmente dei New Jersey per tutelare la sosta perché quello è fatto proprio per evitare che l'automobilista si trovi di blocco la macchina parcheggiata ma lì c'è anche un progetto di illuminazione diversa oppure cioè quando avete pensato al Corso Sempione con le due ciclabili con il parterre fatto in un certo modo avete pensato anche di cambiare l'illuminazione e renderla un po' più come dire visibile ci sono dei potenziamenti no c'è un potenziamento dell'illuminazione che illumina siccome ci sono gli alberi che illumina bene il percorso pedonale e il percorso ciclabile nel senso che come vedete questo è solo l'inizio del cantiere cioè qui noi stiamo praticamente facendo un'operazione di cantiere in cui per prima cosa mettiamo i posti per le auto in strada poi andremo a recintare le aree di cantiere e inizieremo il lavoro sui parterre ecco ma adesso voi siete partiti da piazza Firenze non è poco alla volta vi avvicinate all'arco della pace i tempi previsti quali sono? prima realizziamo prima realizziamo allora adesso noi entro fine aprile 20 aprile completiamo questa operazione di preparazione in modo che rendiamo possibile lo spostamento delle auto e poi da fine aprile inizio maggio invece incominceranno i lavori veri e propri della riqualificazione cioè il lavoro sul parterre quindi la modifica del parterre il rifacimento della pavimentazione la sistemazione degli alberi dell'illuminazione eccetera e probabilmente inizieranno dall'arco della pace da mezzi dei ril venendo in su a tratti utilizzando parterre per parterre non verranno messi alberi nuovi cioè vengono si ci sono anche degli alberi nuovi ci sono delle zone in cui sono stati bottati secchi alcuni cioè c'è una parte di Corso Sempione dove c'è il cantiere adesso che ci sono i ceppi quindi li bisogna mettere alberi nuovi erano ammalorati o malati e li hanno tolsi quindi vanno sostituiti c'è tutto c'è tutto un potenziamento dell'alberatura con sostituzione e anche aumento degli alberi e poi vengono creati diciamo per ogni parterre ci saranno due percorsi uno pedonale e uno ciclabile con poi delle zone in alcuni punti dove ci sono panchine le dì il posto per anche alcune piccole attività di di storo di bar eccetera di iccole per creare proprio un parco lineare da questo punto di vista e i tempi la vostra previsione di lavoro finito tutto terminato quando dovrebbe essere? fra un anno fine marzo dell'anno prossimo marzo aprile dell'anno prossimo allora innanzitutto prima vi annuncio che poi dopo chiariremo definitivamente la vicenda di area C perché è stato detto di tutto su area C poi l'assessore ci dirà bene esattamente che cosa succederà ad area C perché ci sono state anche tante polemiche proprio perché stendo in zona rossa qualcuno soprattutto gli amici del centro-destra avevano chiesto di spegnerla quindi dopo parliamo anche di area C il progetto di Corso Tempione detto così è bellissimo però ma io infatti io non ho mai messo in discussione il fatto che Corso Sempione debba avere un restyling debba essere rivisto noi non difendiamo il divieto di sosta noi difendiamo la libertà di movimento e la possibilità per i residenti in questo caso e i tanti fruitori dei locali pubblici di poter parcheggiare agevolmente io sfido chiunque ad andare in Corso Sempione non adesso che siamo in zona rossa che i locali sono chiusi a trovare un posto auto anche negli autosilo di sera sono tutti pieni quindi lui dice di no l'assessore dice di no io lo contesto non è così perché trovare un posto auto ma non lo dice Alessandro De Chirico lo dicono i residenti lo dicono gli esercenti dei locali pubblici quindi bisognerebbe fare un intervento veramente lo ribadisco per l'ennesima volta coraggioso rispolverare il piano parcheggi che era di Albertina e di realizzare la vostra posizione è quella quella è un'altra posso finire perché poi volevo sapere una cosa la cosa più preoccupante è il fatto che oggi in Corso Sempione traffico ce n'è sicuramente meno siamo in zona rossa non c'è tanto movimento ma anche a Milano in tutta Milano quando torneremo alla vita normale o quello che sarà allora la nostra normalità tutti questi restringimenti di carreggiata tutte queste piste ciclabili disegnate penso anche in Legioni Romani in Via Zurigo eccetera Bisceglie Corso Sempione cioè Corso Buenos Aires Via Le Monze eccetera queste provocano traffico smog inquinamento acustico io sono preoccupato dal ritorno alla normalità perché non è questo il modo di affrontare l'emergenza secondo te la situazione peggiorerà quella situazione peggiorerà ma è già peggiorata ok ma in Corso Buenos Aires è impossibile muoversi io sono mi è capitato di andare in macchina cercare un parcheggio ci ho messo 40 minuti assessore 40 minuti per andare all'ambulatorio di Via Andrea Doria e scuote la testa ma la realtà è quella in Corso Buenos Aires il parcheggio l'ho mai trovato manco prima della città sicuramente ma adesso è ancora peggio sì confermo adesso è ancora peggio vengono mutati vengono mutati il parcheggio a fianco interrato perché il parcheggio ci mettevi 5 minuti dove il parcheggio accanto interrato però il dato è sul traffico io guardo i dati perché poi i dati dei parcheggi noi abbiamo fatto l'incontro anche al quartiere Isola con tutti gli esercenti e i parcheggiatori numeri alla mano e i numeri sono quelli che ho detto al massimo si arriva al 60% dei posti perché tutti cercano di parcheggiare fuori questo è dato non di granelli non di granelli degli operatori secondo noi oggi in città in città in città in città oggi abbiamo più traffico del 2019 perché il numero di auto non la percezione il numero di auto che entrano in città misurati dalle telecamere è circa quando eravamo in zona gialla e arancione più 20% del 2019 l'ingresso in città oggi siamo più 5-6% quindi quando dici chissà quando torneremo no già oggi noi siccome la gente appunto è in una situazione di emergenza usa l'auto non usa il trasporto pubblico e quindi oggi abbiamo più macchine del 2019 in città quindi il traffico è per questo ho capito non credo che la situazione migliorerà non lo dico io lo dicono i virologi che i vaccini servono ma fino a un certo punto perché se poi ci saranno altre varianti non si sa se ci sarà la copertura e via discorrendo quindi non è detto che si tornerà subito alla normalità in maniera immediata quindi è presumibile a meno che voi non vogliate accendere area B e questo ce lo dirà lei e per cui è evidente che le macchine aumenteranno no saranno meno perché se io vengo da fuori Milano e ho l'area B accesa e ho un diesel Euro 2 non posso entrare adesso fortunatamente l'area B è spenta quindi la gente è libera di circolare cara grazia però non 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 aspetta Granelli fermati scusami scusami assessore dobbiamo fermarci c'è la pubblicità poi andiamo anche oltre no con il suo semplione perché dove andiamo dopo qualcuno ci accusa di non mandare i messaggi li sto cercando di mandare tutti quelli che arrivano ne arrivano una marea non posso mandarli tutti anche perché c'è qualcuno che scrive cose che sono illegibili no certo non li posso mandare in onda sicurissimo va bene no le altre ciclabili qualcuno parlava di Corso Buenos Aires di via Zurigo di vari altri c'è anche Sembon qualcuno ha scritto anche lì Sembon oggi ci siamo stati abbiamo provato a vedere anche lì com'è allora andiamo a vedere dopo la pubblicità andiamo in Sembon e poi tutta la verità su area C a tra poco allora ciclabili nuove e vecchie abbiamo titolato perché quella di Corso Sempione è nuova ma poi ce ne sono alcune anche vecchie scolorite C'è ancora più nuova ancora futuro anteriore ci sarà stata Sembon invece c'è il cantiere ci sono già i parcheggi fatti simil Buenos Aires diciamo così nel senso che c'è la ciclabile sulla destra la zona di parcheggio e poi la carreggiata aspetta chiamiamola immagini sono ciclabili sverniciate o nuove ciclabili come l'hai chiamata immagini nuove ciclabili se no non ci capiamo con la regia questa è via Sembon ho detto stile Buenos Aires in realtà ovviamente Buenos Aires è un po' più larga Sembon è abbastanza ristretta diciamo anche come sede stradale tant'è vero che poi vedrete hanno fatto dei video anche i residenti dai balconi e si nota che nelle ore un po' più di punta ci sono dei degli ingorghi notevoli Sembon è diventata impraticabile ci scrive qualcuno 15 minuti per fare 100 metri perché è molto stretta con l'ospedale militare e gli anziani che vanno a fare i vaccini con il centro diagnostico che ha due c'è il centro diagnostico che è enorme con due mila persone che al giorno si recano lì noi abbiamo realizzato questa fantastica granellata direi io dico ma adesso Assessore ma come si fa a pensare una cosa del genere sapendo che l'ospedale militare ospiterà i vaccini lo vedete che la strada di Sembon la carreggiata che porta verso forze armate è questa che vedete ha la ciclabile a destra i parcheggi a sinistra e un corridoio che è questo qui un caos dopo i parcheggi per probabilmente far scendere in sicurezza l'automobilista e poi attraversa altrove ma è molto stretta lì sulla destra sulla destra ci passa ampiamente come vedete una macchina ci può passare a fianco anche una moto tranquillamente è di 4 metri e quindi il minimo di 3 è ampiamente superato lì tra l'altro sulla destra era già vietata la sosta perché siamo all'ospedale militare quindi non si poteva parcheggiare e i cittadini parcheggiavano sulla sinistra e dovevano camminare sul verde mentre noi abbiamo messo in regola i parcheggi sulla sinistra proprio perché sulla destra essendo zona militare non si può parcheggiare ma questo è un ingorgone perché sembra tutto parcheggiato ma in realtà il parcheggio è sulla destra e in mezzo quelle in mezzo stanno andando le macchine che adesso fanno la svolta e tornano indietro perché non vanno più avanti almeno questo è quello che si vede in sto video il problema è che lì già prima c'era un problema che ci segnalavano i cittadini da più di un anno perché c'è il centro diagnostico che ha aumentato la sua attività ma non ha messo altri parcheggi a disposizione il centro diagnostico ha circa 150 posti e non ha aumentato il caos totale i posti ci sono c'è una leggera diminuzione rispetto a prima e già lì comunque i cittadini protestavano perché avevano continuamente la gente che andava sotto ci ha scritto adesso un telespettatore che ha detto che oggi lo stavano investendo lì dal cdi è uscito dal centro diagnostico e lui dice che è colpa anche del restyling che è stato fatto chiamiamolo così con ciclare quello permette lì prima chi parcheggiava a fianco dell'aiuola viaggiava in mezzo alla strada perché parcheggiava contro l'aiuola e quindi poteva o andare sull'aiuola in giro nel fango oppure camminare in mezzo alla strada e noi abbiamo messo invece lo spazio tra la sosta proprio per mettere in regola una situazione che costringeva i cittadini che parcheggiavano a parcheggiare in mezzo alla strada ma se non è mettere in regola questo è complicare la vita fare inquinamento sotto casa delle persone e lì c'erano due corsie guardi che io abito lì qui vicino no non c'erano due corsie no perché per esserci due ci passavano due macchine per senso di marcia dai assessore per favore ci vogliono almeno sette metri e lì non ci sono in sette metri quindi non ci sono non c'erano le due corsie però in realtà andando verso forze armate scusi assessore andando verso forze armate ci scrive qualcuno qua non si parcheggiava sulla destra come diceva lei perché c'era l'ospedale però le due fila ci stavano le due file ci stavano di macchine da quel lato lì almeno dicono loro poi quindi lì una corsia è sparita quindi la corsia ciclabile è un metro e mezzo la corsia ciclabile è un metro e mezzo quindi non ci sta una macchina intera sopra come vedete non c'erano neanche prima le due corsie però allora perché il traffico era più fluido qui ci sono loro che dicono che si viaggiava in due corsie magari non si potete no perché qua scusate no qua ci stanno scrivendo che andavano le immagini qua ci stanno scrivendo che prima riuscivano lo stesso ad andare in due forse non c'era la distanza regolamentale forse era regolare ma si riuscivano però passavano lo stesso chiaro che non ci stessi scrivano loro che ci sono magari anche due macchine piccole non due sub poi c'è il problema che qualcuno sottolinea che lì c'è il problema A del fatto che se non trovi il posto per far scendere eventualmente il paziente che deve andare lì blocchi tutto ovviamente perché c'è l'unica corsia soprattutto il mezzo pubblico i mezzi di soccorso a volte rimangono imbottigliati in questo tipo di coda ma non solo qui ma dovunque dicono anche lì c'è lo spazio no al centro diagnostico in verità c'è lo spazio per accostare per entrare nel loro parcheggio uno può fermare lì far scendere e poi va a parcheggiare perché ha fatto giustamente il centro diagnostico ha fatto un parcheggio probabilmente ci vuole qualche posto in più perché se sono 150 ok andiamo avanti dove non possono si vedono nelle immagini comunque queste sono le problematiche che francamente abbiamo riscontrato anche nelle precedenti nei precedenti di questo tipo è sempre la stessa che si ripete questo qui credo abbia un po' sollevato come dire ha fatto sollevare il popolo perché abbiamo visto anche delle code che si sono viste anche in Buenos Aires ma francamente meno rispetto a quello che si è visto in Sembona almeno le immagini che ho visto io Corso Buenos Aires tra l'altro c'è anche il problema collegato alle attività commerciali non solo in Buenos Aires dovunque ci sono le attività commerciali e togli i parcheggi sulla strada uccidi il commercio anche in Corso Emanuele dicevate così anche in Corso Vettorio Emanuele dicevate così non tutto però anche l'insegna in Corso Buenos Aires oggi ci sono oggi che non è proprio estate ci sono circa 6-7 bici al minuto che passano quindi se noi mettiamo a disposizione dei percorsi sicuri per le bici i milanesi usano anche la bici e se chi può non dico tutti chi può usa la bici avremo meno su Buenos Aires ne faremo un'altra volta un'altra volta adesso parliamo di un'altra cosa se no ogni volta torniamo sempre dobbiamo fare un'altra pubblicità ma io volevo solo far vedere che c'è stata un po' di polemica anche rispetto al fatto che si stessero un po' cancellando le strisce delle ciclabili appena fatte vedo che ad esempio in Loreto siete già passati perché sono andato a controllare e adesso la rifaccia è quella qua avete già rimesso a posto quelle ce ne sono altre che si stanno cancellando funziona in questo modo dove noi abbiamo fatto alcune situazioni dove abbiamo asfaltato e quando si asfalta si mette una vernice veloce perché quando c'è l'asfaltatura appena fatta l'asfalto assorbe molto il colore allora mettono prima una vernice molto veloce che viene poi assorbita e poi dopo due o tre mesi ripassano con quella definitiva questo è quello che avviene normalmente proprio per le caratteristiche dell'asfalto ma bisogna riverniciare altre volte cioè una domanda che si pone qualcuno è ma quanto costa sta roba perché abbiamo detto che c'era è normale è normale è la procedura normale della segnalettica e cioè viene fatta prima dove si asfalta perché quando è appena asfaltato l'asfalto assorbe è come una spugna assorbe la vernice allora assorbirebbe la vernice quella pesante più costosa viene messa una vernice veloce meno costosa che viene assorbita e quando l'asfalto invece si è consolidato viene messa la vernice quella diciamo più forte che costa anche molto di più perché così non viene assorbita altrimenti verrebbe assorbita quella costosa ci ha dato una spiegazione tecnica che va bene dopo la pubblicità andiamo in un altro posto andiamo a vedere Santa Giulia Rogoredo zone merezzate diciamo merezzate perché è lì dove passerà il prolungamento della paulese e poi area C tra poco prolungamento della paulese merezzate poi iniziamo a fare questo discorso perché se ne parlerà ancora a lungo però possiamo vedere le immagini che sono quelle del prolungamento paulese appunto e questa è la zona questo è il campo diciamo così in fondo là c'è Cascina Merezzate che è sotto vincolo paesaggistico che ha fatto Pisapia tra l'altro diciamolo c'è una giunta di centro-sinistra eppure questo prolungamento della paulese passerà lì prendendo una parte di quel campo e lambendo la Cascina perché poi uscirà e arriverà a fare una rotonda diciamo così per andare in via Lombroso per andare in via Zama sostanzialmente eh? non ho capito ci si dopo dico ok ok questi però però in mezzo c'è la strada ci sarà la strada ci sono già le bandierine che tracciano il percorso però ci sono due asili ed è l'inizio della protesta dei cittadini è questo cioè oltre a lambire la Cascina passa in mezzo a due asili questo prolungamento in più dicono abbiamo già quattro svincoli perché abbiamo Cam Rogoredo via Mecenate tutti lì ne arriva il quinto necessità di un'altra strada che entri a Milano non ne vedono loro di necessità e quindi si lamentano ovviamente lì è tutto un territorio che verrà interessato da altri cantieri perché non lontano da lì c'è il cantiere per il palazzetto delle Olimpiadi per un quartiere residenziale che sorgerà appunto accanto al palazzetto è un'area che viene onestamente molto interessata da cantieri in questa fase loro si lamentano dicono non è possibile che si faccia un prolungamento del genere e poi chiedono ecco questa è la strada per com'è adesso nel senso che è stata bloccata tramite quel vincolo messo sulla Cascina ed è arrivata fin lì adesso attraverserà del tutto quella zona e arriverà dalla parte opposta ai medici del vascello sostanzialmente o da quella zona lì per capirci per intenderci insomma niente io volevo capire sarà una zona almeno sarà una strada almeno quello declassata Granelli sicuramente oppure il timore che possano passarci camion glielo lasciamo ai residenti che erano anche intimoriti da questa cosa allora lì la giunta Albertini e Moratti aveva previsto una strada a quattro corsie che dallo svincolo della tangenziale doveva passare di lì e anzi passare sotto la ferrovia e arrivare fino in in Viale Molise sostanzialmente questo era quello che era previsto dalle giunte Albertini e Moratti noi con la giunta Pisapia abbiamo declassato quella strada a una sola corsia per senso di marcia e in parte l'abbiamo prevista interrata tant'è vero che quelle bandierine sono le bandierine che adesso devono iniziare il lavoro di bonifica di quell'area quindi noi e questo è quello che abbiamo quindi noi abbiamo abbiamo trovato un ingresso in città di un'autostrada a due corsie per senso di marcia cioè quattro corsie che lì entravano e abbiamo intanto declassato e dimezzato interrata solo per un pezzo solo per un pezzo e lì dove c'è la cascina non è mai stata interrata quindi noi abbiamo per adesso detto che nel piano Santa Giulia Rogoredo che trae origine dalla giunta Moratti non da noi era prevista questa strada noi l'abbiamo declassata abbiamo detto agli operatori non va fatta la strada a quattro corsie e comunque per ora abbiamo limitato solo al pezzo che collega via Merezzate perché poi deve connettere con la struttura dell'Olimpiadi e la struttura del diciamo prevista da Santa Giulia 2 il centro commerciale tutte cose previste prima di noi e questo è quello che c'è oggi e il progetto non è ancora ultimato nel senso che noi abbiamo comunque chiesto che il progetto venga fatto nel pieno rispetto del vincolo e venga fatto con tutte le mascherature ambientali necessarie e comunque ad una corsia per senso di marcia e poi stiamo ancora valutando se è proprio necessario come avevano deciso prima di noi che poi lì vada avanti passi sotto la ferrovia e arrivi fino in Viale Molise perché noi non vorremmo farlo arrivare lì ma vorremmo che finisca nella zona industriale di medici del vascello eccetera e quindi si concluda lì e non vada oltre noi stiamo studiando la modalità per arrivare a questo obiettivo quindi c'era una superstrada noi l'abbiamo dimezzata e l'abbiamo per adesso limitata a un pezzettino e non tutto che passa di fianco a due asilo che passa di fianco a una cascina tutelata dal sindaco precedente e poi mi risulta che non sia vero quello che dice Granelli ma nel progetto del 2004 si prevedeva l'interramento completo del secondo tratto della Paulese il tratto che marca del prolungamento della Paulese lui scuote la testa dice di no allora visto che voi state pensando se sia il caso bloccate i lavori non fate nessuna bonifica mi risulta che abbiate già sfrattato l'agricoltore di cascina amerezzate quindi bloccate i lavori rifate lo studio e allora io sono convinto che con la metrotranvia in arrivo che verrà realizzata e sono ben contento che venga finalmente collegato il quartiere però visto che prima mi parla di parcheggi di intescambio poi adesso mi dice che deve però se quel progetto in realtà nasceva dalle giunte precedenti si può anche cambiare lo tocchi magari lo tocchi diverso ma sono passati 17 anni sono passati 17 anni le case del quartiere amerezzate non c'erano nel 2004 adesso ci sono quindi avrebbero dovuto stravolgerlo del tutto ma rifallo come sai bene tu escono dall'autostrada dalla paulese lasciano la macchina prendono la metrotranvia e vanno dove devono andare perché già lì ci sono i guiavai di camion che voglio dire cioè almeno lascivi la macchina fallo replicare perché dobbiamo chiudere però l'altro sta toccando un nuovo polo logistico sì c'è un polo logistico che sta aprendono lontano da lì è una cosa molto lunga e ci dovremo tornare certo assolutamente facendo un servizio ma poi ci torneremo ma la storia dei camion mi perdoni Grae perché la domanda mia in partenza era il camion di lì avete intenzione di farceli passare oppure declassate la strada comunale noi vogliamo oggi i camion fanno via Salomone e via Bonfadini e piazza Ovidio in mezzo alle case oggi noi invece abbiamo messo il divieto dei camion stiamo realizzando le castellane in via Salomone per evitare che ci passino i camion e diciamo che i camion devono stare in via Bonfadini no non in via Bonfadini chiedo scusa nel lato di via Medici del Vascello e quindi esterni al quartiere perché se devono andare al centro logistico devono andare da via Medici del Vascello da via Zama come ha sempre detto anche i cittadini del Comitato perché noi non vogliamo che i camion passino in via Bonfadini in via Salomone dove abbiamo messo i soldi e inizieranno i lavori adesso per fare le castellane per fare la ciclabile per mettere gli alberi e per fare in modo che quelle vie lì non abbiano più i camion ok però ne parleremo ancora ovviamente perché i lavori stanno andando avanti quindi no poi magari in corso d'opera potranno esserci delle variazioni il Comitato di cui parlava Granelli in realtà sono rimasti un po' stupiti dal fatto che dopo me l'hanno detto decine e decine di incontri proprio con lo stesso Granelli a un certo punto si sono visti queste bandierine che sono comparse nel terreno lavori che sono partiti perché hanno cominciato a sbancare dal lato di qua e quindi a creare le trincee loro dicono però non ci hanno detto niente è andato così a sorpresa stanno sbancando allora il progetto della strada non è ancora stato approvato quindi quelle non sono le trincee della strada quelle che abbiamo visto quindi blocchi il progetto ossessore prenda l'impegno blocchi il progetto e lo rivano allora non è possibile perché c'è non è possibile e non c'è progetto eppure bisogna fare il lavoro come lei sa come lei sa lì c'è una convenzione sono degli atti urbanistici dei privati che hanno messo i soldi grazie agli accordi che avete fatto voi e che hanno impegnato hanno impegnato hanno impegnato a fare quelle opere quindi noi non è che possiamo dire adesso non fate più nulla stiamo cercando di vittimare prima dice che lo vuole rivedere poi che non lo può rivedere farlo finire perché dobbiamo chiudere assessore no di questo ne parleremo ancora quindi vedremo no perché quelle lì ovviamente sembrano quasi trincee poi se l'assessore dice non sono le trincee della strada no sono quelle per fare la bonifica sono quelle per fare la bonifica con i trincelli vedete se lui ci dice così va bene noi dobbiamo chiudere comunque la strada è prevista e non sto dicendo che non è prevista la strada però sto dicendo che anzi è prevista a metà di quello che era ipotizzata e stiamo rivedendo le ultime cose del progetto e lo presenteremo poi anche i cittadini per fare in modo che i camion non entrino né in via Salomone né in via Bonfadini comunque la cosa importante è che i cittadini saranno coinvolti visto che appunto col testi sono lamentati del fatto che no ha detto che sono stati coinvolti ma che non sono stati ascoltati che è peggio perché è una cosa è il metodo del centro sinistra milanese è questo partecipare organizzare le mie cittadini poi non riusciti a portare avanti su questo invece no noi dobbiamo chiudere Area C resta così o si spegne Assessore? affigurati però Area C rimane perché i dati del traffico sono ancora elevati però pur con Area C non c'è stata la saturazione del trasporto pubblico anche quando eravamo in arancione o in giallo i cittadini hanno accolto l'invito a utilizzare il meno possibile il trasporto pubblico tra le 8 e le 9 e quindi questo ci ha permesso facendo partire Area C dalle 10 di non mettere in saturazione il trasporto pubblico finché se riusciamo a mantenere questi numeri andremo avanti per limitare il traffico negli orari in cui questo è possibile Quindi Area C resta così Area B rimasta spenta ma Area C resta accesa Ok Dalle 10 Dalle 10 L'Area C è attiva solo dalle 10 proprio per fare in modo che non ci sia la saturazione del trasporto pubblico Noi continuiamo a vedere i pubblici anche a Pasquetta rimane accesa Area C o è un festivo A Pasquetta essendo festivo Area C non c'è mai stata Ok grazie Granelli E perché tu pensavi fosse accesa Eh no perché c'era qualche Ma vai festa Adesso la l'Area C è certificato così si è risparmiato nel mio attacco lunedì Eh no lunedì poi tanto credo che il Consiglio Comunale non ci sia visto che è Pasquetta Io non dormo mai Sì Va bene dai Allora Si presenta l'Una solo a Palazzo Marino a Pasquetta Va bene Allora va bene dai dobbiamo chiudere dobbiamo fare gli auguri di Buona Pasqua Grazie Assessore Grazie Assessore anche a te Volevo fare gli auguri tutti insieme stai lì stai lì facciamo gli auguri tutti insieme Buona Pasqua e Buona Pasquetta a tutti quanti Lunedì quindi ovviamente non ci siamo io non ci sarò perché è festivo tu ci sei domani che gioca al Milan Sì Ci vediamo venerdì prossimo sempre per linea d'ombra per il Covid e me e andiamo ancora in giro per i quartieri Grazie ad Alessandro di Chirico Buona Pasqua Grazie Assessore Granelli Grazie auguri a tutti Domenico Zingaro Silvio Valsecchi in regia grazie a te Buona Pasqua anche a te Eh buono il suo compleanno è il compleanno di Jacopo Grazie a tutti voi che avete mandato i messaggi Grazie Assessore Grazie a tutti che avete mandato i messaggi Mi stavo dimenticando Non mi ho letti e mi sono veramente Compie 26 anni 26 anni Compie 26 anni Va bene Buona Pasqua e auguri a Jacopo Ci vediamo venerdì Il compleanno al lavoro Esatto Certo Grazie